Giornalista d'inchiesta, scrittore, saggista, cofondatore della trasmissione televisiva Report, ha scritto per le più importanti testate giornalistiche quali la stampa, il manifesto e il Corriere della Sera della Repubblica. Lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito, signori e signori Paolo Barnard. Buonasera, il punto qua è, oltre a capire che cosa sta succedendo ai nostri redditi, ai nostri capannoni, al nostro portafoglio ordini, al nostro negozio, eccetera, ai risparmi, alle possibilità dei nostri figli o dei nipoti di vivere in un paese che crei lavoro, eccetera, al di là di questo, della comprensione di cosa sta veramente succedendo, che è importante perché nessun giornale, né televisione, ovviamente, vi offrirà un'informazione reale di quello che sta succedendo. Non possono, perché dipendono in tutto e per tutto dai signori che guidano l'economia, per cui non possono perdere il posto di lavoro raccontando la verità. Allora, al di là di questo, però, c'è il fatto di cosa fare dopo, perché io giro l'Italia a fare conferenze da molto prima della crisi economica, su tutte le inchieste che facevo c'era sempre il solito round, l'inchiesta andava in televisione, dopo c'erano i tre mesi di conferenze. Insomma, sono degli anni che faccio queste cose e ho anche fatto delle cose di un certo rilievo, perché se pensate a Rimini nel febbraio di quest'anno, quando abbiamo raccolto 2180 persone paganti per ascoltare questi temi, è stata la più grande conferenza di economia della storia d'Italia, forse una delle più grandi mai fatte al mondo. Ecco, quelle 2180 persone dove sono finite, perché acquisisci il sapere. molti mi scrivono dopo, dicono, io non immaginavo che cosa stava succedendo, lei mi ha aperto gli occhi, adesso uno che mi ha scritto di recente, ed è pubblicamente apparsa questa cosa, è l'attore italiano Riccardo Scamarcio, che è un divo delle ragazze, eccetera, il quale in un'intervista su Io, Donna, del Corriere della Sera, aveva detto, io leggo Paolo Barnard, è importantissimo, eccetera. E lui mi ha chiamato e mi ha detto, ah, tu mi hai aperto gli occhi, io prima di leggere te non avevo mai capito cosa stava succedendo nel mondo della politica e dell'economia. Grazie Riccardo Scamarcio, un attore famoso, tutto, ma chissà quanti ci sono come lui, no, che mi leggono e hanno capito, quante sono venute alle conferenze, hanno capito, e poi, ecco, il punto è poi, il discorso è cosa fare con tutto quello che apprenderete questa sera. Sto partendo dalla fine nel discorso, perché è la cosa che mi premi di più, perché dal mio punto di vista, lo capirete anche dal punto di vista umano, se qualcuno si mette nei miei panni, star qua sopra, non è che a me interessi più di tanto, sinceramente, non è che il fatto di essere chiamato in televisione una volta o due mi interessi più di tanto, a me interesserebbe riuscire a fare qualcosa, più che ad avere l'applauso. E allora parto proprio da questo punto, che cosa facciamo noi cittadini che viviamo sulla nostra pelle questa cosa orrenda che sta succedendo, poi dopo una volta che abbiamo acquisito gli strumenti per capire e per fare delle richieste alla politica, al mondo della politica, cosa facciamo? Allora io vorrei che questo pensiero, che cosa farò io questa sera dopo che esco da qua, rimanesse con voi almeno lungo tutta l'esposizione, perché magari alla fine, se questo tarlino, se questo tarlo vi ha lavorato dentro la testa, magari alla fine facciamo uscire da qua, non dico tutti, ma qualcuno, con un'idea precisa di come agire con quello che ha imparato e come salvarsi la pelle, nel senso, metaforicamente parlando, ma neanche tanto metaforicamente parlando. Allora, andando con ordine, io porto in Italia questa teoria economica, che ha un nome strano, si chiama Modern Money Theory. Ora ovviamente, già l'economia per il 99% delle persone è una palla, una noia tragica, nessuno se ne vuole occupare, neppure persone cosiddette acculturate. Poi in più un nome così strano, chissà cosa vuol dire. Allora, bisogna comprendere un fatto che è fondamentale nella vita di tutti, letteralmente di tutti. Quando l'Italia, ma non solo, quando noi esseri umani siamo, almeno in questa parte del mondo, usciti dalla tirannide, cioè usciti da quei sistemi dove avevi il principe, avevi il barone, avevi la chiesa da una parte, avevi gli imperatori dall'altra, avevi i signorotti, avevi i padroni, c'era gente che dettava legge, vita morte su chiunque e non c'era possibilità di dire niente, la gente, cioè queste persone erano meno che animali. A volte valevano meno degli animali, detto sinceramente. proprio dal punto di vista del proprietario. Ora, una volta che siamo usciti da questo sistema e abbiamo cominciato nel Settecento, piano piano, grazie al pensiero di uomini che sono passati come uomini illuminati, di luministi e tanti altri, abbiamo cominciato a dire, beh, insomma, in fondo la gente qualcosa conta, in fondo la gente ha dei diritti, la gente deve avere dei diritti, la gente deve stare meglio, eccetera, no? E questi signori, questi padroni feudali del mondo, di tutto, della vostra vita, dell'economia, di tutto, devono perdere qualcosa, perché se no la bilancia non si mette in pari e non si crea giustizia. Ecco, abbiamo cominciato in questo modo, sono passati quasi 250 anni da quei tempi, d'accordo? e il mondo ha visto una trasformazione enorme, ok? Cioè, guardate dove siamo, solamente centinaio di anni fa, probabilmente tutti qua dentro, io incluso, saremmo stati servi della gleba, incapaci neppure di scrivere o di leggere, capito? Niente, proprio le nostre famiglie di origine da cui ciascuno di noi proviene, erano ridotti così, erano messi così. Oggi siamo qua, bene, perfetto. Dovete vederla dal punto di vista di chi, non di chi l'ha acquisito il potere, cioè la gente, cioè le società, cioè le democrazie. Voi dovete cominciare a guardare le cose dal punto di vista di chi l'ha perso il potere. Cioè, questa era gente che si svegliava la mattina e comandava il mondo, comandava l'universo. Non c'erano giudici, non c'erano tribunali, non c'erano leggi, non c'era niente. C'era la parola del signorotto, quello lui diceva, il proprietario, il padrone, tac, tac, il prete, diceva una cosa, tu eri morto, non morto, finito, non finito, lavoravi, non lavoravi. Questo era comune qui nelle campagne, lo sappiamo tutti, il potere di vita e di morte. Ok, questi hanno perso sta roba. Non è che gli è nata bene, ti perdono, non è che l'hanno persa volentieri, hanno perso ricchezze inimmaginabili. D'accordo? Hanno perso il potere di dire al contadino che non si era levato il cappello davanti alla signora in Siberia, con la moglie. Via. Non c'erano avvocati, non c'era niente, zero. E questo non succedeva 300 anni fa, succedeva nella Russia zarista, è un bellissimo romanzo di Turghenev, racconta questo episodio che lui ha visto con i suoi occhi, pochi decenni fa, diciamo, ok? Non tantissimo fa. Hanno perso questa roba, hanno perso ricchezze immense, pensate agli sfruttamenti coloniali, pensate all'era industriale, pensate ai profitti che hanno fatto i grandi nomi dell'industria, che hanno fatto la storia dell'Europa, i Krups, i Siemens, i Rothschild, eccetera, questi grandissimi, questi hanno comperso potere e ricchezza in quantità incredibile. Non gli è andata bene. Allora, dovete capire che non sono rimasti seduti a casa a dire, beh, vabbè, avevo 27 tenute, 6.000 persone che lavoravano per me a mezza moneta al giorno, adesso non ho più le 27 tenute, ne ho 5, ho l'aereo privato e non ho più 27.000 persone che lavorano per 5 centesimi, ma ne ho 200, ho 300 che lavorano per me. Non è che si sono accontentati di questo, sono rimasti a casa, abbiamo perso, pazienza. È logico, è intelligente pensare che le élite abbiano tentato e pianificato in qualsiasi modo possibile e immaginabile di recuperare il potere che avevano perduto. Il sistema democratico non gli andava bene, non gli è mai andato bene. E non è che, ripeto, sono rimasti a casa a far nulla, hanno cominciato a lavorare sodo. E questo è stato l'oggetto della mia ricerca quando iniziare a pensare di scrivere il più grande crimine. Mi posi il problema di dire, ma se è vero che oggi, anche se abbiamo la democrazia per finta, anche se abbiamo gli stipendi, l'Inps, le pensioni, l'ambulatorio e il medico di base, d'accordo, e nessuno dei nostri bambini lavora più in miniera per una moneta al giorno, mezza moneta al giorno, anche se abbiamo questo. Però, voglio dire, noi oggi, questa gente oggi, che ha ripreso abbastanza potere da poter creare un intero continente dove i diritti dei cittadini e dei parlamenti sono stati distrutti, come hanno fatto ad arrivare fin lì? Avevano tantissimo potere, gradualmente l'hanno perduto man mano nei decenni e nei secoli, in due secoli e mezzo. E oggi l'hanno recuperato abbastanza da poter riuscire, senza che nessuno se ne accorgesse in realtà, a riacquisire abbastanza potere da togliere il potere ai parlamenti nazionali, da togliere il potere alle Costituzioni, da togliere il potere economico agli Stati, da riprendere in mano quasi tutta la gestione della ricchezza del mondo. E allora io mi sono posto a questo domando e ho detto, io devo raccontarla questa storia. Devo riuscire a fare una ricerca seria, approfondita, con degli accademici importanti, non gentetta da quattro soldi, gente che abbia veramente approfondito le questioni, e raccontare come questo è successo. Cioè come questo colpo di Stato finanziario che ha travolto anche l'Italia nell'ultimo anno sostanzialmente, e che è solamente il punto d'arrivo di un processo lunghissimo, si è potuto verificare. Ecco che cominciamo a scoprire un mondo che non immaginavamo, cominciamo a scoprire che realmente queste famiglie, questi grandi industriali dell'Europa, queste famiglie a una volta nobili, questi chiamati rentiers, e venivano chiamati, e sono ancora chiamati rentiers, hanno lavorato in maniera molto diligente, molto capace, finanziando con miliardi il loro lavoro, per riportare una situazione, naturalmente, compatibilmente con la modernità, non potevano più riportarci al carro, ai gendarmi, e alle galere sotto ai castelli. Hanno dovuto farlo nei limiti della modernità, ma hanno potuto riportarci c'è una situazione di neofeudalesimo. Perché quello che noi oggi viviamo, anche se questa sera abbiamo mangiato la cotoletta, abbiamo guardato la televisione, e domani andiamo a Lido di Spina a fare il weekend, noi oggi stiamo rivivendo una situazione di neofeudalesimo. Perché quello che voi avete, che oggi considerate il benessere sostanzialmente, non è che una briciola, in realtà, una briciola di quello che potreste avere. Una piccola, miserabile, microscopica briciola. D'accordo? E tutto il resto, che voi non avete, non avrete mai, per non parlare di quelli che non vanno a fare il weekend a Lido di Spina, perché sono stati licenziati, o hanno delle situazioni a casa drammatiche, perché hanno mutui da pagare, e non possono veramente neanche immaginare di uscire più a mangiare la pizza con i figli. Ok? Cioè, e tutto quello che voi non avete, l'hanno acquisito loro. Se lo sono ripreso, l'avevano perduto dal Settecento in poi, man mano, e adesso l'hanno completamente ripreso. E l'hanno ripreso con gli interessi, perché, pensateci bene, la regina Vittoria, per avere quello che aveva, doveva combattere guerre, doveva mobilitare risorse immense, rischi pazzeschi, ovviamente non personali, ma sto dicendo, carneficina destra-sinistra, un impero da controllare che richiedeva degli sforzi bellici, militari, spaventosi, per poi acquisire un profitto che era enorme, d'accordo, ma voi immaginate che oggi ci sono quattro persone a Wall Street che senza fare guerre, senza avere 27.000 soldati, ma con 15 dipendenti, o 20 dipendenti in un ufficio, fanno gli stessi soldi, esattamente identici, forse anche di più. quindi nella realtà oggi si sono ripresi la ricchezza e con gli interessi, se la sono ripresi in maniera molto più furba, nessuno può neanche dire, ma hai fatto sparire il mio padre impiccato a un gancio di ferro in una segreta di Parma perché protestava contro le ingiustizie, nessuno neanche può più dire questo, anzi no, adesso c'è la democrazia, noi possiamo dire quello che vogliamo, e loro si stanno arricchendo molto di più di prima, come prima, molto di più di prima, alle nostre spalle. E siamo noi quelli che pian piano stiamo perdendo il potere di acquisto dei nostri stipendi, che rispetto agli anni 70 è calato fino al 72%, questa è una cosa che non scrive il Corriere della Sera, non lo dicono neanche a Ballarò, però è così. C'è un bellissimo studio che tra l'altro è della Bocconi, dell'Università Bocconi, fra l'altro, che è quella di Monti, perché qualcuno dentro che ancora sa studiare alla Bocconi c'è, che parla di crolli del potere d'acquisto degli stipendi dal 75% a oggi fino al 72%. Voi avete perso questo. Chi qua ha i capelli bianchi si ricorda, io me lo ricordo benissimo perché ero bambino, che una persona che lavorava in casa riusciva non solo a mantenere una famiglia, ma a fargli fare anche le vacanze. Due persone che lavoravano, facevano le vacanze, mandavano i bambini al mare e pagavano un mutuo. sono poteri d'acquisto che oggi sono inimmaginabili, ma non solo. Rispetto al potenziale tecnologico che abbiamo, abbiamo ancora una sanità da medioevo e non abbiamo una sanità migliore, non perché non sia possibile, non perché non ci siano i mezzi, ma perché non vogliono darceli, semplicemente non ce li vogliono dare. potremmo tutti lavorare per vivere benissimo nella piena occupazione italiana un terzo di quello che lavoriamo, con lo stesso reddito, con lo stesso standard di vita, anzi di più, però non ci concedono di farlo. Potremmo portare via tutta la metalmeccanica italiana che sta rotolando giù dal burrone, prendere tutta la Fiat, mandare il signor Marchionne in vacanza in Canada, riprendere tutta quella gente che perderebbe il lavoro, farla rilavorare da un'altra parte con stipendi migliori e non avere più questo ricatto, questo capio sulla testa del fatto che la Fiat ci sta o la Fiat non ci sta, che c'è o non c'è, l'investimento o non l'investimento. Potremmo dire agli investitori internazionali che oggi non scommettono più sui titoli di Stato degli italiani, andate al diavolo, chi se ne frega, e avremmo con questa economia gli investitori che invece tornano a bussare le porte dell'Italia ci pregono in ginocchio di comprarci i titoli di Stato. Vorrebbe dire una società che si democratizza veramente e che riesce a godere di uno standard di vita che è dieci volte quello attuale, per tutti. Allora, questa presentazione specifico non è il parto della fantasia di Paolo Barnard, è il parto di un'economia che ha cento anni di storia, ok, e che ha questi padri che elenco molto rapidamente. Questo signore, un tedesco, Georg Friedrich Knapp, è stato un grandissimo economista, è importante perché è il padre di questa teoria che si chiama il cartalismo, non è difficile, ve lo spiego in tre secondi, è la cosa che sta poi alla base di tutto quello che vi ho appena detto, vi ho appena detto voi potreste avere dieci volte di più di quello che in realtà vi dicono che non potete avere, adesso ci sono i tagli, non ho bisogno risparmiare, non anzi, non ho bisogno stringere la cinghia, semplicemente perché chi comprende come fece per primo nella storia Friedrich Knapp il valore del cartalismo cioè che la moneta allora era la carta, oggi è moneta elettronica per la maggior parte, che la carta moneta non ha nessun valore per lo stato che la emette, ha e acquisisce un valore solamente per chi non può emetterla e deve lavorare per averla, ma per lo stato che emette la moneta la carta è carta, è una unità di conto senza valore intrinseco si dice in economia, un'unità di conto che lo stato produce dal nulla, non è un peso per lo stato, non è un indebitamento per lo stato, lo stato ne può fare un uso illimitato, all'interno di alcuni parametri di sicurezza, ma sono pochi e anche abbastanza semplici da comprendere, ok, questa carta non ha valore per lo stato, vuol dire che lo stato la può creare e darla a voi. Dopo lo vediamo più nello specifico. Un altro padre di questa economia è John Maynard Keynes che ha fatto uno dei maggiori economisti della storia dell'umanità, Mitchell Innes è un altro, Abel Erner è un nome importante perché è un uomo che viene dalla retroterra nostro, non è un accademico, lui iniziò come piccolo imprenditore in America e aveva una, non so se un magazzino di qualcosa eccetera, che fallì miseramente nella crisi del 29 e dovete capire come si sentì lui, si sentì esattamente come si sta sentendo questa mia amica che ha investito tutto quello che ha in un negozio nella provincia di Bologna ed è lì che è impiccata tutti i giorni perché con la crisi la gente non entra a comprare, ok, lui fece una fine ancora peggiore perché fu travolto dalla crisi del 29 e solo che si incapponì e disse ma io devo capire perché l'economia mi ha sottratto i miei clienti, non mi arrendo a dire c'è la crisi economica, voglio capire, è diventato un economista, un grandissimo economista accademico, insegnava come vedete all'università di Cambridge e la cosa importante è la finanza funzionale perché lui ha detto, ha scritto sulla differenza fra la finanza ortodossa, quella classica, quella che leggete sul cardino sulla Repubblica nei telegiornali e la cosiddetta finanza funzionale che si rifà sempre al principio del cartelismo cioè esiste un modo per lo Stato di gestire la moneta che è funzionale a che cosa? Alla piena occupazione, ai pieni servizi sociali, alle piene infrastrutture, alla piena produzione delle aziende, al rilancio produttivo del paese, eccetera. Lui disse noi andiamo avanti per schemini e dogmi che ci vengono insegnati nell'università dai grandi tromboni dell'economia e questa è la finanza ortodossa, poi c'è la finanza vera, quella che veramente serve alla gente, la finanza funzionale di Abel Erner. Wynne Godley, altro economista importantissimo, vi farò vedere dopo che cosa sono i suoi bilanci settoriali per capire esattamente com'è possibile, com'è veramente possibile che uno Stato che ha una moneta in mano possa fare quello che ho appena detto, che sembra incredibile, quando Heiman Minsky ci ha parlato della instabilità finanziaria, cioè del processo, esattamente del processo che ha portato alla grande crisi finanziaria del 2007 e moriva nel 1996, per cui ce l'ha preso. Charles Goodhart dalla Banca d'Inghilterra è l'economista oggi vivente, più autorevole che sostiene esattamente quello che io vi sto dicendo e vi spiegherò anche più avanti, cioè che questa emissione della carta, della moneta da parte dello Stato che crea un debito che è del tutto fittizio, il famoso debito pubblico, non è un peso né per lo Stato né tantomeno per i cittadini e qui ribaltiamo completamente la prima grande retorica che è quella del il debito pubblico che è il nostro debito e il debito dei nostri nipoti. Questi sono gli economisti che porto in giro per l'Italia sono economisti di altissimo livello sono quelli che verranno a Rimini e a Cagliari per il 21 ottobre e il 27-28 ottobre sempre che si faccia. Allora, qui c'è una serie di slides che ho fatto per le imprese perché questa presentazione la faccio anche quando parlo agli imprenditori però non è che qua ci interessi particolarmente almeno che non ci sia qualche imprenditore qua che dopo le vuole vedere e gliele faccia vedere. Allora, andiamo al primo punto che è il punto più importante. La modern money theory questa economia che parte dal cartalismo di NAP dell'Ottocento vi dice e vi ho appena detto che in realtà se uno stato è proprietario della propria moneta può decidere di usare questa carta che per lui non è debito e non è debito neanche per i cittadini per il benessere di tutti i cittadini. Questo l'Italia fece per un periodo a partire dalla fine della seconda guerra mondiale l'Italia si comportò esattamente in questo modo chiamiamolo keynesiano post-keynesiano cioè o modern money theory anche se allora la modern money theory ancora non era stata coniata come termine. L'Italia fu un paese che spese molto e lo stato produsse questa carta e ne spese tanta per far che cosa? Per riportare una nazione che era sotto le macerie della guerra e dove il maestro Manzi in televisione insegnava l'italiano agli analfabeti questo era l'Italia c'erano gli analfabeti tantissimi nel sud addirittura non quasi la maggioranza per prendere questo paese che era messo peggio di come è messa l'Albania oggi o il Kosovo e portarlo a diventare la settima potenza o quinta o settima potenza del mondo l'Italia è stata presa dalle macerie degli analfabeti e della guerra è stata portata una società agricola urale senza miniere di carbone senza giacimenti di petrolio senza praterie sterminate con 100 200 300 milioni di animali senza ricchezze minerali pazzesche è stata portata da niente a diventare il settimo paese di questo piccolo paesino lì in mezzo è diventato e io quando ero ragazzino a 12-13 anni mi ricordo che già mi chiedevo ma com'è possibile che noi siamo così forti da essere entrati nel G7 cos'è che abbiamo evidentemente andiamo bene non mi rendevo conto esattamente perché lo Stato fece questa cosa spese molto per noi ci creò tutta questa ricchezza naturalmente cosa succede che poi coloro a cui non va bene coloro per i quali non è accettabile che la democrazia arricchisca la cittadinanza hanno creato una ideologia che è il neoliberismo ideologia economica neoclassica che ci racconta esattamente il contrario no 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 ma no no lo Stato ha speso ma si è indebitato ha sbagliato adesso i soldi che avete dovete restituirli siete indebitati non va bene così ok? andava tutto bene fino a che questi signori non hanno preso il sopravvento ci hanno raccontato che l'Italia era un paese di spendacioni a parte il fatto che non è vero e lo vediamo subito questi dati che io prendo li prendo da la spesa dello Stato dell'Unità d'Italia oggi vedete qua questo è il governo italiano Ministero dell'Economia e della Finanza ok? qui non sono dati inventati da chissà quale giornalista ora voi vedete rapidamente come in questo grafico si dimostra che l'Italia che è verde nella spesa pubblica in percentuale sul PIL nella realtà partendo dagli anni 60 è sempre stata in mezzo alle medie europee e internazionali non è mai stato mai stato il paese che spendeva più degli altri ha superato di un poco negli anni 90 la media dei paesi europei poi si è allineata fino a congiungersi di nuovo verso la fine del 2009 questo non è un paese che sta spendendo in maniera stratosferica e questo altro grafico è molto interessante da vedere queste sono sempre la spesa dell'amministrazione pubblica dell'Italia sul prodotto interno lordo l'Italia secondo guardate la media dei paesi europei questa è l'Italia vedete che noi abbiamo delle percentuali che sono nella media europea assolutamente dentro la media europea ma addirittura per esempio sotto la media francese che comincia a essere già sul 50% molto più alta di noi se poi vediamo gli anni più recenti ancora di più l'Italia qua la Francia molto più spendaciona dell'Italia il Belgio anche siamo sempre nella media europea l'Italia non è vero che è stato un paese di spendacioni prima bugia ok questa è un'altra bugia che ci raccontano rapporto debito prodotto interno lordo questa è l'Italia che noi persone più anziane qua dentro abbiamo conosciuto i forlani i spadolini i fanfani i craxi i demita bla 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 gente per carità non certo politici raccomandabili ma stiamo sull'economia però ok guardate il debito pubblico italiano la parabola che ha fatto non è stato un disastro fino alla caduta della prima repubblica guardate dove si è impennato il debito pubblico italiano nella realtà con i governi tecnici del post-Tangentopoli fino ad arrivare a Berlusconi con Berlusconi leggermente cala cala ancora col arrivare ad Alema e Amato ok e poi dopo si rimpenna in tutti gli anni successivi questo vabbè queste sono questo di nuovo questo è una cosa del fondo monetario internazionale che riguarda l'Italia è la spesa dello Stato e le tasse ok la linea nera grossa è la spesa dello Stato e queste qui sono le tasse come vedete negli anni virtuosi in cui l'Italia diventa uno dei sette paesi più ricchi del mondo la tassazione è sempre stata di molto inferiore alla spesa dello Stato lo Stato ha sempre cartalisticamente speso di più di quello che ci tassava e lì il paese è diventato uno dei sette paesi più ricchi del mondo guardate il trend finale con l'entrata nell'euro come la tassazione comincia pian piano a raggiungere la spesa e oggi abbiamo la tassazione che abbiamo lo sappiamo dal 50 al 61% dipendendo dalle regioni e guardate questa cosa che è straordinaria presa da Economia e Finanza della Repubblica dice a metà degli anni 90 l'Italia appariva a giudizio delle agenzie di rating che oggi hanno tagliato il giudizio su di noi appariva come una delle economie leader dell'Unione Europea con una crescita media anno superiore al 2% nell'ultimo decennio oggi cresciamo meno 2,6% crescevamo allora del 2% una crescita media quindi voleva dire che c'erano dei momenti in cui si cresceva anche di più ok? Standard & Poor che sono queste agenzie di rating che avete sentito sui giornali apprezzava il record italiano di un tasso di inflazione moderato 5,8% chi è che sa qual è l'inflazione di oggi? 2 2,3 dipende dai semestri 2,3% la responsabile è conosca dalla Banca d'Italia nonostante il precedente elevato livello del disavanzo pubblico deficit 9,4% avevamo il deficit al 9,4% chi è che sa cos'è il deficit oggi? 3,4 ok? il deficit italiano oggi è al 3,4 9,4 debito pubblico 124% 4 punti superiore al debito di oggi più alto del debito di oggi d'accordo? allora com'è che negli anni 90 l'Italia appariva a giudizio dell'agenzia di rating come una delle economie leader dell'Unione Europea qual era il motivo? cos'è successo? perché negli anni 90 avevamo la lira la moneta cartalista che lo Stato poteva spendere come voleva e aveva speso nei 30 anni precedenti come voleva e aveva speso a debito nei 30 anni precedenti creando la settima più maggiore potenza economica del mondo e grazie solo a questo in quegli anni l'agenzia di rating nonostante avessimo deficit più alto debito più alto inflazione più alta ci giudicavano come una delle economie leader dell'Europa oggi abbiamo dei parametri economici virtuosi quelli che piacciono a Monti virtuosi ok siamo i pigs cioè i maiali d'Europa nella vergogna dell'Europa economicamente con una crescita almeno 2,6 con una disoccupazione che sta arrivando a un livello spagnolo abbiamo il 34% dei giovani disoccupati la disoccupazione è al di sopra del 12% e via dicendo ok cosa è successo siamo passati all'euro cioè lo Stato passando all'euro ha perduto la carta ha perduto il suo cartalismo ha perduto la possibilità di emettere questa carta questa moneta di inventarla dal nulla e di spenderla in modo keynesiano per arricchire il paese ok allora prima di passare a questo vado alla lavagna un attimo perché dobbiamo capirlo bene questo concetto di e questo è Wyn Godley questo concetto di che cosa significa per un paese avere una moneta cosa significa avere un bilancio dello Stato cosa significa avere un bilancio in passivo un bilancio in pareggio un bilancio in attivo il bilancio in passivo è il momento in cui lo Stato spende di più di quello che vi tassa quindi usa la carta è cartalista capendo comprendendo che questa sua emissione non è un debito per nessuno tanto meno per lui tanto meno per i nostri nipoti avere un bilancio in pareggio vuol dire che lo Stato decide di spendere e di ritirare dal pubblico tutto quello che ha speso cioè dare 100 e togliere 100 e il bilancio inattivo è addirittura il contrario cioè lo Stato spende 100 per i cittadini e li tassa 120 così questo signore che si chiama Stato accumula un tesoretto che non si capisce a cosa serva non si capisce a chi serva vabbè allora questa è l'Italia ok questo è il nostro paese e come dico sempre ogni paese ogni nazione ha due tipi di ricchezza una ricchezza finanziaria rappresentata dal denaro e da tutto quello che è denaro è denaro anche un titolo di Stato è denaro anche un'obbligazione è denaro anche un titolo di una banca eccetera e ricchezza reale ricchezza reale sono le auto le case i campi le industrie tutto quello che è il cibo la carne tutto quello che è ricchezza reale allora in questo paese ci sono due entità e solo due il governo è il non governo questo è G e questo è non G semplice che cos'è il governo? il governo è tutto l'apparato pubblico tutta l'amministrazione dello Stato questo è il governo tutto ciò che non è amministrazione dello Stato è apparato pubblico cioè tutta la cittadinanza le imprese i bar i negozi i mestieri i campi i contadini tutto quello che non è governo è settore non governativo ciascuno di questi due settori se ci pensate bene ha esattamente la stessa divisione di ricchezza tutti noi abbiamo soldi e cose la maglietta la casa il trattore il computer o appunto i risparmi in banca o i debiti in banca perché sono soldi anche quelli allora lo Stato ha denaro e cose reali noi abbiamo denaro e cose reali la domanda che ci dobbiamo fare è dimenticandoci per un attimo lo Stato qua dentro all'interno di questo settore che siamo noi chi crea denaro? se noi ci mettiamo tutti quanti facciamo per comodità di ragionamento immaginiamo che siamo noi siamo il settore non governativo cioè siamo tutta l'Italia tutta l'Italia dei mestieri delle aziende delle professioni dei cittadini siamo tutti chiusi qua dentro allora qui dentro chi crea denaro? chi è che è in grado di creare denaro? perché vi faccio questa domanda? perché dobbiamo capire come facciamo tutti noi ad acquisire più ricchezza finanziaria per avere un migliore reddito per avere un migliore standard di vita per avere più tutele per avere più servizi per avere tutto di più ok? abbiamo bisogno di creare più finanza per questo chi di noi crea denaro? qualcuno di noi ha la 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 stampatrice di bigliettoni a casa nessuno ce l'ha se non a parte qualche falsario nessuno di noi ha la zecca nessuno di noi possiede una banca ok? noi abbiamo delle attività quando un'attività commerciale fa soldi cioè ha successo è logico che quei soldi derivano da qualcun altro allora se questa signora è un'imprenditrice e ha lanciato un prodotto che sta vendendo da pazzi è perché qualcuno qua dentro lo sta comprando quindi lei ha accumulato del denaro ma qualcuno l'ha perso qui gli è uscito dalle tasche d'accordo? cioè è logico immaginare pensare ed è assolutamente vero da un punto di vista economico che tutto il denaro che circola qua dentro è semplicemente un giro di vasi comunicanti si alza da una parte si abbassa da un'altra se qualcuno guadagna qualcuno spende se qualcuno risparmia qualcuno si indebita non c'è possibilità di far sì che tutti noi qua dentro allo stesso tempo cresciamo di denaro è da dove viene qualcuno se qui cresce la deve calare se la cresce qui deve calare non c'è pezza d'accordo? le banche qua dentro e stanno qua dentro le banche creano denaro questo è vero chi lavora con le banche sa che le banche creano denaro però le banche creano anche indebitamento cioè per ogni singolo centesimo di denaro creato dalle banche esiste un indebitamento di nuovo si è alzata una colonnina e si è abbassata una colonnina da qualche parte neanche le banche possono creare del denaro al netto cioè un denaro che entri in questa stanza che benefici tutti senza che nessuno se ne sia privato o senza che nessuno si sia indebitato qua dentro non si crea denaro è impossibile d'accordo? allora come si fa ad avere più denaro qua dentro? è giocoforza immaginare che l'unica possibilità che un contenitore esterno da qua crei un valore finanziario e lo immetta qua dentro d'accordo? e questo è quello che fa ogni singolo stato al mondo attraverso quella che si chiama la spesa pubblica lo stato proprietario di una moneta il dollaro la sterlina la lira il marco eccetera crea questa moneta al lato della spesa compra un ospedale qua dentro paga gli operai che l'hanno fatto l'azienda che l'ha fatto paga l'indotto dei prodotti che sono stati venduti che fare con l'ospedale costruisce una strada paga stipendi a insegnanti a consulenti alla polizia ai pompieri eccetera ok? quindi crea una spesa che entra qua dentro qui nessuno si è privato di un singolo centesimo nel momento in cui lo stato ha deciso di costruire con l'ospedale d'accordo? quindi è il denaro che è entrato poi cosa fa lo stato però? fa un'altra cosa che è un po' meno carina tassa ok? e quindi prende il denaro che solo lo stato può aver creato perché nessuno di noi può creare le lire i marchi i dollari gli yen eccetera prende il denaro che lo stato ha creato che ha messo qua dentro e lo tira fuori da qua se ne riappropria attenzione al gioco allora è ovvio che se lo stato spende centocinquanta e tassa cento ci lascia qua dentro al netto cinquanta ok? questo vuol dire che tutta questa cittadinanza italiana sia arricchita di cinquanta senza essersi privata di un singolo centesimo ha messo centocinquanta ha tolto cento ci rimangono cinquantanetti perfetto se lo stato decide di mettere cento e di togliere cento qua dentro ci rimane zero siamo esattamente da capo non abbiamo un singolo centesimo di ricchezza finanziaria aggiunta non possiamo risparmiare niente non possiamo reinvestire niente siamo nella stessa condizione di prima ok? se poi lo stato decide sciaguratamente dal mio punto di vista di spendere cento e tassare centocinquanta qua dentro andiamo a meno cinquanta un anno meno cinquanta un anno meno trenta un anno meno quarantacinque un anno meno venti dove finiamo? finiamo nello Zimbabwe allora lo stato che spende di più di quello che è tasse e lascia cinquanta qua dentro per tutti noi è in deficit di bilancio lo stato che mette cento e toglie cento e ci lascia secco fa il pareggio di bilancio lo stato che spende cento e toglie centocinquanta fa il surplus di bilancio oggi tutti i media vi raccontano che la virtù dell'Italia sarebbe il pareggio di bilancio cioè rimanere a secco o il surplus di bilancio cioè impoverirci anno dopo anno di 30 40 50 60 30 20 50 eccetera con quale insensata idiozia dal mio punto di vista anche criminale perché questa gente sa benissimo conosce benissimo l'economia e sa di cosa stanno parlando con quale insensata idiozia si va convincendo i cittadini che fare un pareggio di bilancio fa il bene dell'Italia come fa a fare il bene dei cittadini un pareggio di bilancio lasciandoci zero nelle tasche è impossibile è matematica l'abbiamo messo in costituzione oggi nella costituzione italiana c'è scritto che l'Italia deve fare questa cosa mettere 100 togliere 100 mettere 150 togliere 150 lasciarci sempre a zero questo è un impoverimento automatico della società cioè sono gli stipendi stagnanti i redditi stagnanti i servizi stagnanti le infrastrutture stagnanti in un arco di tempo di 10 15 20 50 60 anni è impoverimento automatico ok c'è un motivo per cui fanno questo sanno benissimo quello che stanno facendo vogliono riprendersi la ricchezza ok non lasciarla a noi ma questo è un altro discorso stiamo sulla parte tecnica attenzione detto questo chiarito un attimo il discorso dei bilanci settoriali i bilanci dei settori settore governo settore non governo chiarito un attimo questo andiamo a vedere una terza cosa qua c'è un altro settore ok che lo chiamiamo il settore estero il settore estero è un settore esterno a noi che siamo in questa stanza anche loro possono spendere da noi con le frecce così esattamente più di quello che ci tolgono è chiaro che se comprano da noi più prodotti di quelli che noi compriamo da loro è ovvio che noi gli diamo 100 soldi loro ce ne danno 150 noi incassiamo 50 quindi è possibile che un paese possa diciamo bilanciare un governo che non fa il suo dovere buttandosi disperatamente su questi signori qua però capite benissimo che un sistema di questo genere è totalmente inaffidabile perché il settore estero prima di tutto può decidere di andare a spendere da qualche altra parte le dinamiche della globalizzazione fanno sì che adesso paesi emergenti che tutti conosciamo riescono a produrre qualità e tecnologia ormai quasi pare alla nostra se non addirittura pare alla nostra a prezzi che sono 10-15 volte inferiori si apre una guerra una concorrenza verso il basso che è spaventosa l'azienda italiana a questo punto deve disperatamente tentare di vendere all'estero perché deve giocare qua invece che avere i soldi da qui ok quindi deve mettersi in competizione con l'azienda cinese con l'azienda indiana brasiliana portoghese eccetera tedesca che varano i tedeschi fra l'altro quindi hanno anche i giochi truccati ma voglio dire allora cosa deve fare un'azienda italiana non potendo più avere niente che gli entra da qua deve tagliare da qualche parte dove va a tagliare nello stipendio dei dipendenti perché deve vendere le scarpe deve vendere l'orologio deve vendere il carburatore del trattore a un prezzo inferiore al concorrente cinese indiano e quell'altro e allora si parte in una gara a ribasso micidiale dove nella realtà per riuscire ad avere più investimenti da qua di quelli che noi portiamo all'estero finiamo per distruggere i redditi italiani oltre al fatto che ho citato all'inizio per cui a un certo punto questi possono decidere che in Italia non comprano più per cui io sinceramente devo dire una cosa se noi pensiamo come pensano certi economisti che secondo me nonostante studiano tanti anni non sanno di cosa stanno parlando se noi pensiamo che un paese si possa reggere su questa gara pensiamo veramente alla rovina dell'Italia noi dobbiamo avere un governo che è l'emissore della moneta che ne può emettere tanto quanto gli ne pare senza reali problemi che faccia sta in gioco virtuoso spenda a deficit specialmente nei momenti di bisogno come sono questi questi anni di adesso noi abbiamo l'economia italiana che si sta avvitando disperatamente e c'è bisogno di un intervento del sovrano di chi può emettere la moneta per iniettare beni finanziari qua dentro vuol dire creare piena occupazione impiegare tutti i disoccupati che sono stati resi disoccupati dalla crisi economica impiegare i sottoccupati che sono laureati e lavorano per 800 euro per 600 euro ok creare le infrastrutture per rilanciare le aziende italiane come hanno fatto i tedeschi mentre dicevano noi di non farlo e non potevamo farlo perché era spesa pubblica loro lo facevano barando ok cioè fare tutta quell'opera di iniezioni di beni finanziari qua dentro che rilancia il paese questo noi dobbiamo fare contare su questa gente ma attenzione attenzione riproduco quello schema che abbiamo appena visto in una piramide faccio due piramidi ok lo schema che abbiamo appena visto si può riprodurre in questo senso in cima c'è il sovrano cioè il governo il governo è in cima a tutto d'accordo sotto al governo questo è l'emissore della moneta sotto al governo c'è tutto il settore non governativo NG d'accordo che comprende banche aziende famiglie ok abbiamo visto che il governo può decidere di operare con la spesa virtuosa tassare meno di quello che spende d'accordo? questo è guardate questa piramide in cima c'è il sovrano la banca centrale europea emissore della moneta sotto ci sono le banche internazionali europee e qua c'è il settore non governativo che invece di avere banche famiglie e aziende ha governo aziende famiglie e banche commerciali ce ne mettiamo anche quelle ok che cosa è successo? è stata creata l'eurozona cosa vuol dire? questo era l'emissore sovrano della moneta le lire i dollari qui c'erano monete sovrane i dollari esistono ancora sono ancora sovrani ok questa è l'emissore dell'euro moneta sovrana adesso solo che l'emissore della moneta colui che poteva fare questa operazione è diventata una banca una banca centrale europea formata da 17 banche centrali nazionali ok quando questo signore crea il denaro cosa fa? non fa come faceva questo signore qua il governo crea spendendo costruisce l'ospedale paga lo stipendio pubblico fa l'infrastruttura eccetera paga il poliziotto il pompiere quando la BCE crea il denaro lo immette dentro le banche di investimento internazionali europee ok le quali banche internazionali di investimento europee prestano il denaro gli euro direttamente al governo che sta nel settore non governativo cioè il governo italiano è diventato esattamente come il signor Mazzetti qua dentro che per comprare l'auto va alla finanziaria sotto casa e dice ho bisogno di soldi per comprare l'auto e la finanziaria gli dice te li do all'8% prendero e lasciare questo succede adesso con l'euro il governo italiano va dalle banche che hanno ricevuto gli euro direttamente dalla BCE e dice ho bisogno di soldi per pagare gli stipendi per fare le infrastrutture eccetera ok perché devo darli alle aziende devo darli ai miei cittadini eccetera le banche dicono ok 5% 6% 7% ci fidiamo non ci fidiamo lo spread lo spread i tassi che si alzano draghi che deve intervenire la paura l'Italia fa default siamo nei pigs la vergogna dell'Europa eccetera è tutto questo il discorso allora è ovvio che io come cittadino oggi non posso più chiedere al mio governo di fare la spesa virtuosa e riportare l'Italia nei G7 così come fu negli anni in cui l'Italia aveva la lira e spendeva deficit creando un debito fittizio che non è il debito del governo non è neppure il debito dei cittadini oggi non posso più farlo perché il mio governo appena che è in mano un criminale ma voglio dire forse in mano una persona onesta dovrebbe dire guarda mi piacerebbe tanto darti del denaro cioè darti di più di quello che ti tasso ma oggi non posso perché devo restituire ogni centesimo a questi usurai che stanno qui e questi non perdonano e se non glielo restituisco domani non me ne danno più perché io non posso più crearlo l'Italia non crea gli euro non può creare stampare un singolo euro non può non è più l'emissore degli euro d'accordo quindi un onesto governo ti devi dire guarda cittadino mi dispiace non posso più allora il cittadino dice ma come noi eravamo in una condizione dove avevamo un governo dal 1948 fondato dai padri costituenti della Repubblica Italiana che poteva inventare i soldi spenderli a deficit per la cittadinanza arricchirci tutti senza creare disastri economici e siamo stati un paese benestante dal 1948 sostanzialmente diciamo ma fino al al 1999 come io ero in una situazione del genere e adesso mi ha messo qui e non posso più fare niente ma come ma cosa è successo è stato creato l'euro ma come è stato creato l'euro ma non era la nostra fortuna ma non era l'arricchimento dell'Italia non era il grande rilancio economico ma non era la fortuna dei cittadini no non vi hanno spiegato come si crea l'euro vi hanno ingannati vi hanno fregati questo è un progetto che a 70 anni pensato da economisti macroeconomisti e banchieri europei che conoscevano il funzionamento della moneta alla perfezione e che sapevano che il signor Knapp assieme a Keynes assieme a Innes assieme a Godley assieme a tutti quelli che sono venuti dopo assieme a Kaleski altro grandissimo economista dimenticato sapevano che questi avevano capito come funzionava la moneta dello Stato avevano capito benissimo che lo Stato poteva tranquillamente usare la moneta per tutelare il 99% dei suoi cittadini e creare piena occupazione pieni servizi sociali pieni infrastrutture piena produzione aziendale aiutare le aziende cosa che gli Stati Uniti hanno fatto all'infinito fra l'altro voglio dire ok hanno capito benissimo come funzionava allora questi hanno detto no 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 questa cosa non ci piace troppo potere alla gente troppo potere al popolo troppo potere alle piccole e medie imprese troppo potere a questo popolino di ignoranti aperte le virgolette chiuse le virgolette a questi outsider rompicoglioni Walter Lippmann uno degli ideologi di questo disastro americano che scriveva noi siamo gli outsider rompicoglioni ok no 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 bisogna fare un'altra cosa bisogna togliere a questo Stato questa capacità perché altrimenti acquisisce troppo potere c'è troppa democrazia e questo non ci va eravamo i padroni del mondo nel settecento nell'ottocento torneremo i padroni del mondo ecco cosa si sono inventati questo e in questo sistema noi siamo finiti qua non si può uscire può intervenire Draghi a fare la sua uscita che compra titoli di Stato per cui adesso per qualche mese qualcosina respireremo un po' d'ossigeno cioè come dire siamo sotto l'acqua completamente ci tirano fuori di una narice ma scusa io non voglio stare sotto l'acqua di una narice io voglio stare fuori dall'acqua respirare bene essere contento no Draghi interviene abbiamo una narice fuori dall'acqua ok va bene ma perché dobbiamo stare in questa condizione e perché ci hanno detto che questa era la fortuna dell'Italia allora torniamo un attimo qua per capire un po' meglio il discorso di questo debito pubblico perché naturalmente tutto questo discorso fila molto liscio fino a che qualcuno non vi dice no no guarda che Paolo Barnard è uno che dice delle cose che noi abbiamo smentito da tanti anni il debito pubblico si può creare si può momentaneamente arricchire la cittadinanza si fa quella bella operazione delle frecce che dice Paolo Barnard però poi è debito e tu lo devi ripagare e allora caro mio Paolo Barnard ti vende una frottola cioè ti dice la gallina l'uovo oggi non la com'è? non mi ricordo più l'uovo oggi è meglio l'uovo oggi che la gallina domani è una roba di leggende non li ho mai imparati bene questi e smentisce quello che abbiamo detto allora guardate un attimo questo questo è una questo è un grafico del Fondo Monetario Internazionale che riguarda l'Italia la riga blu è il bilancio del governo ok? e questo è il bilancio di noi d'Italia non governo siamo noi guardate com'è andata regolarmente negli anni vedete che tutto quello che il governo spendeva scusate si tramutava istantaneamente nell'attivo dei cittadini ma è logico chiedo scusa ma voglio dire quando io se io sono un fabbro che lavoro per un'opera pubblica dobbiamo fare un ponte qua o dobbiamo fare un ospedale o dobbiamo fare fondamenta se sono un'azienda che fa materie plastiche devo fare riparimento di uffici pubblici o di scuole eccetera quello che mi viene pagato come azienda come stipendio come fa a essere il mio debito? è la spesa pubblica la freccia ok come fa a essere il mio debito? questo non capisco se io compro se io sono un cittadino qui di migliarino compro un titolo di stato e do mille euro e quel titolo mi rende oggi mi può rendere il 5-6% mille euro stavano sul conto corrente dell'unicredit a prendere non so meno dell'1% adesso sono su un conto del tesoro sono sempre a mio nome e prendono il 5% come fa a essere il mio debito? non capisco perché la spesa dello stato è il debito dei cittadini? come fa a esserlo? la spesa dello stato è sempre l'attivo dei cittadini questa è la situazione americana stessa storia cioè veramente il deficit di bilancio di uno stato a moneta sovrana è al centesimo l'attivo dei cittadini bilancio del governo bilancio del settore domestico privato ora però ci dicono un'altra cosa e questo è interessantissimo ci dicono ok ammesso anche che sia dimostrato che in fondo è vero che un titolo di stato arricchisce un cittadino non lo impoverisce che uno stipendio arricchisce il cittadino non lo impoverisce neanche lo indebita a meno che poi lo stato uno decide di tassare a morte ma è una scelta politica ok tutta questa creazione di denaro si vi arricchisce però Paolo Barnard non vi dice che crea inflazione e allora dopo è come se io vi dessi cento soldi e poi con l'inflazione ve li mangio tutti non avete avuto niente in realtà allora l'Italia aveva inflazione certo che aveva inflazione noi eravamo più poveri vediamo un attimo questo è molto interessante ok questa è l'istat serie storica di inflazione media italiana 54 2010 ok la serie storica questa è l'Italia con le sue inflazioni andiamo a vedere le inflazioni dell'Italia partiamo dal 1955 2% 3-4 eccetera le inflazioni sono variate tantissimo il 70 il 5% il 71 il 4 8 e via andiamo avanti il 12% gli anni 70 il 17% inflazioni molti importanti ok guardiamo il 1980 che io ho messo in rosso perché è l'anno in assoluto dove l'Italia ha avuto la maggiore inflazione della sua storia il 21% e quando vi dicono lo Stato spende a deficit qui l'Italia stava veramente spendendo a deficit infatti era il 1980 è stato l'anno in cui l'Italia proprio è esplosa nella sua ricchezza talmente tanto poiché è finita in corruzione mazzette di tutto e di più eravamo anche forse troppo ricchi allora questo è il 1980 l'Italia ha il 21% di inflazione e l'economista Monti dice Paolo Barna vi ha venduto una frottola perché spendendo tanto poi si crea inflazione perfetto andiamo a vedere l'Italia dell'inflazione allora questo è un grafico del OXE o ECD OXE non so se si legge Economic Outlook ok allora il tasso di risparmio delle famiglie in Italia e in altri paesi europei una comparazione internazionale abbiamo Austria Belgio Danimarca Finlandia Francia Germania Irlanda C'era Spagna Svezia Giappone Stati Uniti eccetera 1980 l'Italia 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 ha il 21% di inflazione abbiamo il 21% di inflazione l'Italia è il paese con il più grande risparmio privato del mondo nel 1980 c'era l'inflazione ha creato un disastro ha impoverito gli italiani perché gli italiani nel 1980 con l'inflazione al 21% avevano il 25% di risparmio privato nelle famiglie voleva dire che ogni famiglia italiana in media in media risparmiava il 25% del suo stipendio dopo aver speso tutto quello che doveva spendere per vivere le vacanze le ferie l'auto l'assicurazione il condominio eccetera come era possibile che con l'inflazione così eravamo il paese che risparmiava di più al mondo ma come non eravamo lo Zimbabue andiamo a vedere gli anni virtuosi oh ecco gli anni virtuosi cominciamo a scendere con sta maledetta inflazione perché Paolo Barnard sta vendendo delle frottole adesso qui abbiamo la spesa pubblica che è crollata siamo entrati nell'euro non abbiamo più una moneta sovrana il giochetto cartalista di Paolo Barnard e dei suoi economisti non funziona più ed ecco che finalmente abbiamo un'inflazione virtuosa ecco questo è un paese serio un paese serio con i conti in ordine 0,8% di inflazione oh eccoci andiamo a vedere i dati dell'economia reale questo è sempre l'Ocse che ci racconta che l'Italia nel 2009 ha un risparmio privato del 6,8% è crollato di 4 volte eravamo il paese che risparmiava al 25% con l'inflazione allo 0,8% e risparmiamo al 6,5% questo deve mettere nella testa di tutti voi anche se non siete economisti l'idea che quando vi raccontano le frottole dei fantasmi degli spauracchi dell'inflazione vi raccontano bugie nella realtà l'inflazione non è un parametro economico che possa far paura nel momento in cui viene gestita dalla spesa dello Stato in maniera appropriata cioè mantenendo la funzionalità dei redditi pari all'aumento dell'inflazione semplice sulla disoccupazione guardate l'eurozona questa è l'eurozona ci avevano promesso che l'eurozona sarebbe stato il miracolo dell'economia e del benessere dei cittadini cioè l'occupazione è la prima cosa allora noi entriamo nell'euro nel 1999 formalmente nel 2002 questa è la fonte dell'euro stat d'accordo questi sono i tassi di disoccupazione abbiamo Giappone e Stati Uniti e poi abbiamo sopra l'Europa dei 17 c'è l'eurozona e l'Europa dei 27 l'Europa generale guardate che roba ma non ho capito ma non era l'euro che doveva portare la fortuna dell'Europa il crollo della disoccupazione l'aumento della produzione cosa è successo arriviamo al 2008 che abbiamo ancora dei tassi di disoccupazione poi guardate anche dopo 2009 2010 2011 qui stiamo arrivando al 12% con delle medie in Europa che arrivano al 40% al 50% di disoccupazione ma l'euro non doveva portare alla fine di questo disastro perché paesi con la moneta sovrana come il Giappone e gli Stati Uniti sono rimasti sempre lungo tutto il decennio a un tassi di disoccupazione quasi della metà dei nostri gli Stati Uniti hanno fatto l'impennato nel 2008 per la crisi finanziaria ma la crisi finanziaria è una crisi artificiosa creata a tavolino non è una crisi della spesa dello Stato un'altra cosa il Giappone è rimasto come era prima guardate l'Europa che disastro l'euro non ci ha portato un posto di lavoro in più e anche questo è interessante possiamo fermarci un attimo qui allora una delle cose sempre che ci raccontano per convincerci del fatto che è necessario ribaltare questo paradigma virtuoso che io descrivo come paradigma virtuoso ok cioè questo con boneta sovrana ci raccontano come abbiamo visto il problema del debito cioè ci dicono il debito è il debito dei cittadini e dei nipoti che abbiamo visto che non è vero e non può essere vero ci dicono che ci sarà inflazione abbiamo visto che l'inflazione non conta una cippa detto come va detta se lo Stato sa fare il suo mestiere dal punto di vista della gestione monetaria ci raccontano della disoccupazione la disoccupazione in realtà è aumentata perdendo la moneta sovrana e perdendo le spese a deficit meno deficit è aumentata la disoccupazione non è diminuita ok e l'altra cosa che ci dicono è questo l'Italia è un paese che non era competitivo ha delle colpe perché le aziende italiane non sono competitive il mercato del lavoro italiano è troppo regolamentato i sindacati hanno fatto troppo lavoro hanno chiuso strangolato la flessibilità in Italia eccetera e quindi dobbiamo di nuovo credere alla quarta quinta menzogna che ci vendono oggi per imporci l'austerità e creare questa flessibilità in entrate in uscita del mercato del lavoro che vuol dire gente che sta a casa o che guadagna zero ragazzi che non hanno futuro non potranno mai sposarsi nemmeno che meno fare un mutuo eccetera andiamo a vedere una roba sapete che nel mondo esiste un consesso di economisti e finanzieri e industriali che è probabilmente forse il più alto al mondo cioè il luogo il momento più prestigioso di riunioni di questa gente che è il World Economic Forum a Davos in Svizzera passa anche nei telegiornali ogni tanto quindi probabilmente qualcuno se lo ricorda ogni febbraio se non mi sbaglio a Davos in Svizzera si riuniscono questi magnati dell'economia internazionale soprattutto grandi industriali e finanzieri e fanno questo summit in questo summit loro una delle cose più importanti che esce dal summit sono le pagelle dei singoli stati che servono agli investitori per sapere dove andare a investire i loro soldi loro vanno a Davos e chiedono agli specialisti di Davos di stilare le pagelle perché devono andare a investire e queste sono alcune delle pagelle più interessanti nelle pagelle c'è questo indice globale di competitività ok la Svezia tanti tanti dati interessanti ma quello che conta per un investitore l'occhio dell'investitore cade sempre qui perché l'investitore vuole sapere quali sono i fattori più problematici per andare a investire in Svezia in questi paesi allora qui c'è scritto non so se lo leggete un mercato del lavoro troppo regolamentato come in Italia troppe tasse questa è la Svezia non andiamo bene per niente la Fornero direbbe qui bisogna deregolamentare il mercato del lavoro questa è la Finlandia quali sono i maggiori problemi in Finlandia troppe tasse il mercato del lavoro è troppo regolamentato la Fornero boccia la Finlandia assieme all'Italia la Germania addirittura la Germania il primo problema in assoluto non lo sai tutto quello che ci raccontano a noi che siamo è il mercato del lavoro troppo regolamentato ma andiamo malissimo arriviamo alla Svizzera poi non ne parliamo addirittura non solo la Svizzera ha un mercato del lavoro troppo regolamentato ma anche una forza del lavoro che è poco formata inefficienza del governo troppa burocrazia l'avessi malissimo secondo i dogmi delle austerità dell'economia attuale questi sono paesi che dovrebbero affrontare con urgenza un problema grave per rendersi competitivi questa è la pagella finale del summit di Davos 2011-2012 e queste sono le nazioni più competitive al mondo la Svizzera la Svezia la Finlandia la Germania allora vuol dire che proteggere i lavoratori non licenziarli non troncare gli stipendi non creare delle flessibilità spaventose delle precarietà che sono qualcosa di allucinante in realtà non mina la competitività di un paese non è vero non è assolutamente vero l'Italia la povera Italia è questa anche lei come vedete è indicata come tutti gli altri paesi che abbiamo visto come un paese con troppe burocrazia in efficienza al governo troppe tasse mercato del lavoro troppo regolamentato però per qualche misterioso motivo che la Fornero non ci sa spiegare l'Italia è al 43esimo posto nella competitività sotto la Thailandia la Tunisia le Barbados e via dicendo perché è importante vedere queste cose è importante perché il cittadino deve cominciare a capire la quantità di balle che gli raccontano la retorica che martellano tutti i giorni nei telegiornali nelle radio commerciali io le sento addirittura allo Zodi come si chiama Zodi 105 ripetono le stesse cose perché abbiamo il deficit dobbiamo pareggiare i bilanci non siamo competitivi c'è l'inflazione tutte le regoline te le sbattono in testa talmente tanto e così quando vedi un politico che va in televisione che possa essere Di Pietro come possa essere Fini come possa essere chiunque che ti dice la formuletta precotta sì perché il deficit è sbagliato sì perché dobbiamo pareggiare i bilanci capite perché? è un trappanamento mentale che non si basa su nessuna realtà macroeconomica che è semplicemente stato creato da dei pensatori economici che invece l'economia la conoscono benissimo e che ho descritto nel mio saggio di più grande crimine proprio per portare la fine di quel sistema virtuoso che se ne fregava dell'inflazione che se ne fregava del deficit che se ne fregava della flessibilità sul lavoro e che portava i paesi un paese come l'Italia a essere il quinto o settimo paese più ricco del mondo in soli 30 anni non andava bene questo era un'accelerazione di democrazia di benessere della cittadinanza ignorante e rompicoglioni che non andava bene per il potere e i sindacati non hanno capito niente perché si sono accodati a quelle favolette facendosi spaventare dal ricatto dell'inflazione dal ricatto del deficit e hanno accettato tutti i piccoli colpi d'accetta uno dopo l'altro che hanno portato l'Italia ad avere una situazione come abbiamo oggi con il 78% dei giovani italiani che sono costretti alla flessibilità quando nel 2000 il congresso degli Stati Uniti d'America in una mia inchiesta mi dava un documento dove c'era scritto che i congressman americani avevano sancito che la flessibilità era un'opzione e doveva solo essere un'opzione altrimenti avrebbe devastato il paese e i sindacati italiani non se ne sono accorti me ne accorgevo io che facevo le inchieste sono andati dietro a queste retoriche che ci hanno trappalato nel cervello hanno comprato tutto si sono bevuti tutto e oggi siamo dove siamo non ci sono basi economiche per le balle che ci hanno venduto ok? fra l'altro questa è la Germania questa è una cosa carina della Germania fra l'altro quando ho detto prima due o tre volte qualcuno forse non se ne è fatto sfuggire che la Germania è un paese che oggi che ha sempre dettato le regole di austerità per gli altri mentre a casa propria barravano e hanno barato tantissimo con la storia dell'unificazione la Germania ha sborsato una quantità di soldi pubblici questa freccia qua in Germania era più grande di questa lavagna lungo tutti gli anni 90 hanno avuto i fondi neri persino dalla Francia dalle banche francesi che hanno speso nelle investimenti pubblici e mentre Andreatta andava da Van Miert e che gli diceva in Europa il commissario diceva in Europa lei deve chiudere i rubinetti della spesa pubblica le partecipazioni statali deve ripulire le aziende italiane perché devono essere privatizzate in Germania lo Stato spendeva deficit dei miliardi di marchi per rifinanziare le aziende tedesche d'accordo? allora guardate la Germania cosa ha fatto questo è fondo monetario internazionale il current account è la bilancia dei pagamenti in particolare è la parte della bilancia dei pagamenti che riguarda il rapporto export-import cioè quanto si vende e quanto si importa questa era l'Italia nel 1996 siamo nella lira la bilancia commerciale l'Italia era questo paese e questa era la Germania questa era la Germania non so perché non ce l'ha scritta comunque dopo c'è ah no c'è ma non si vede perché è scritto qua dentro questa era la Germania questa è la Francia la Germania si presentava le soie dell'euro nonostante tutti i miliardi di marchi che avevano speso in netto svantaggio rispetto all'Italia d'accordo? perché l'Italia essendo proprietaria della propria moneta qua aveva tutti gli strumenti di politica monetaria per aiutare le aziende italiane a vendere all'estero togli la moneta via la moneta italiana adottiamo l'euro siamo pronti? questo è il risultato eravamo qua e siamo finiti così questo è quello che è successo l'euro ha distrutto le esportazioni italiane e ha avvantaggiato in Europa un solo paese cioè la Germania e qui ci sono altri dati che confermano in pieno fra l'altro una cosa che è di nuovo che parla dell'epocrisia della Germania questa è una una chart che è stata rilasciata per sbaglio perché è stato rilasciato alla stampa senza permesso un rapporto della Deutsche Bank consegnato al governo tedesco quest'anno ok e questo in questo rapporto la Deutsche Bank fa vedere i guadagni dalle privatizzazioni dalla metà degli anni 90 in poi ok i vari paesi europei naturalmente i guadagni dalle privatizzazioni come potete capire elementarmente sono in diretto rapporto con il volume delle privatizzazioni perché è vero che puoi vendere un'azienda come Leni e tascare una quantità di soldi impressionante ma devi comunque nell'ambito nell'evento generali avere un volume di vendita tale che ti possa garantire degli alti guadagni quindi più si è guadagnato dalle privatizzazioni evidentemente più si è venduto guardate la Germania predica molto bene ma rassola molto male e questi sono gli altri stati europei siamo stati tutti spinti dalla retorica tedesca della gestione dell'economia austera a vendere i nostri patrimoni pubblici alla Germania fra l'altro ok e intanto la Germania a noi vendeva poco anzi quasi niente questa è la realtà dell'inganno tedesco allora questa è un'altra cosa che è spaventosa letteralmente spaventosa questa è una chart della Banca d'Italia relazione annuale 2011 d'accordo quindi la affidabilità è assoluta produzione industriale nei maggiori paesi dell'area euro entriamo nell'euro siamo i primi della classe per produzione industriale non so se qui ci sono aziende siete anche voi qua dentro ok questa è la Germania è il sommaro della classe all'inizio del 2001 ecco dove è la Germania ecco dove è l'Italia questo è l'euro questo è successo perché hanno strangolato togliendoci la moneta sovrana la possibilità dell'Italia di fare questa spesa virtuosa per aiutare la produzione italiana e qui siamo crollati hanno costretto tutta l'Europa a giocare qua sull'estero che vi spiegavo prima come è il discorso la Germania che aveva barato per dieci anni finanziando pubblicamente le proprie aziende ripulendole lucidandole si è presentata nell'euro con un settore export che era potentissimo perché era stato rilucidato a nuovo a spesa dello Stato mentre l'Italia ci avevano costretti a chiudere i rubinetti dei finanziamenti pubblici alle aziende ok e questo è il risultato l'Italia perde di competitività in maniera catastrofica non può più fare niente per le proprie aziende la Germania che parte avendo barato con dieci passi di vantaggio diventa il paese che esporta le più in Europa e riesce a compensare con delle esportazioni pazzesche la perdita perché anche per la Germania è vasta la perdita della spesa dello Stato perché altrimenti l'aveva fatta prima facile no? allora lo shopping qui concludo direi perfettamente nei tempi sono dei dieci una cosa che ha di grandissimo valore perché io vi ho fatto vedere i nomi degli economisti vi ho fatto vedere brevemente il prestigio la loro storia ma ci sono testimonianze in più rispetto a quello che io porto alle mie platee li avessimo ascoltati guardate questo questo studio cioè per me è veramente tutte le volte che lo presento mi viene da ridere e ovviamente in una situazione così drammatica si perde un attimo di tensione ma mi viene da ridere perché voglio dire questo qui è allora è uno studio prodotto il proposito di questo studio è di osservare come gli economisti americani quelli con il sistema della Federal Reserve cioè la banca centrale americana economisti della banca centrale americana e delle università americane hanno monitorato l'unificazione monetaria europea dalla pubblicazione del piano dell'or del rapporto dell'or che fu quello diciamo il rapporto che lanciò l'idea dell'unificazione europea dell'euro eccetera fino all'introduzione dell'euro nel gennaio 2002 questi studiosi americani della Federal Reserve degli università americani hanno prodotto nel 2002 quindi all'entrata in gioco dell'euro il seguente giudizio l'euro non può succedere è una brutta idea non dura e ovviamente va detto che a questo livello di autorevolezza cioè non è l'università di Pescara con tutto il rispetto no? cioè qui siamo a livello di massima autorevolezza internazionale questi rapporti sono regolarmente letti dai tecnici tecnocrati dei ministeri italiani dai ministri italiani dai politici che poi non li leggono ma vengono regolarmente inviati quindi chi avesse voluto l'avrebbe potuto leggere benissimo un'altra testimonianza è il famoso economista che vi citavo prima Wynne Godley il professore merito dell'economia all'università di Oxford che nel 1997 in un'intervista all'Observer giornale inglese diceva questa è l'inglese questa è l'italiano le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana ma anche alla loro capacità di spesa con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla banca centrale dovranno prendere in prestito sui mercati aperti i governi dovranno prendere in prestito sui mercati aperti aperti allora questo rischia di essere troppo costoso per loro persino impossibile le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere 1997 più di dieci anni dopo è successo e questo è Paul Krugman premio nobel dell'economia scrive su New York Times e in un'intervista alla CNBC ha dichiarato e questo riguarda noi quello che è successo è che adottando l'euro l'Italia si è ridotta allo stato delle nazioni del terzo mondo che devono prendere in prestito una moneta straniera una moneta straniera questa era la lira era dello Stato italiano noi siamo qua e l'euro è della BCE è di un'entità estranea ed esterna all'Italia quindi devono prendere in prestito deve prendere in prestito una moneta straniera con tutta la perdita di flessibilità che ciò implica in particolare poiché le nazioni dell'euro non possono emettere la loro moneta neppure in emergenze come oggi soffrono disfunzioni che le nazioni che hanno una moneta sovrana non soffrono e se ne vedono oggi i risultati infatti l'America che ha una moneta propria non ha questo tipo di problemi l'America oggi con tutti i guai finanziari che può avere ha un'inflazione bassissima tassi di interesse soprattutto quello che conta sono i tassi di interesse sui titoli di Stato che sono quasi allo 0% in alcuni casi allo 0 in alcuni casi all'1 in alcuni casi 1,4 eccetera e non è un paese non è nei pigs non è ok e questo non so se si vede è un cartello che è stato fotografato da una ragazza a Roma fuori da un'attività commerciale dove c'è scritto chiudiamo per sempre il 31 luglio ho visto uomini con la forza scusate ho visto uomini con la terza elementare mettere su un'azienda e dar lavoro a decine di persone poi ho visto professori con tre lauree in tasca far chiudere migliaia di aziende affamando milioni di persone l'intelligenza non si studia grazie a tutti grazie ah bene se c'è qualcuno che vuole fare delle domande può farlo siamo forza e coraggio prego dunque l'euro da quello che capisco l'euro non dovrebbe essere la moneta di uno stato sovrano che dovrebbe essere l'Europa dovrebbe allora l'euro è stato creato come moneta di nessuno non è assolutamente nello statuto della creazione dell'euro la possibilità che l'euro sia una moneta di un qualsiasi stato e questo è il questa è la la fregatura questa è la stortura l'aberrazione della creazione di questa moneta che non è avvenuta per caso perché in tutta la storia della creazione dell'euro si è voluto con la massima attenzione separare la capacità di emettere la moneta dallo stato perché per i motivi che ho detto tutta sera perché uno stato che può emettere una propria moneta ha delle capacità delle potenzialità economiche che sono talmente alte e spaventano i veri proprietari della ricchezza internazionale allora l'euro è nato senza questa possibilità che poi oggi di fronte a lo sbriciolarsi dell'europa e proprio oggi nel senso letteralmente oggi perché è una notizia di oggi il presidente del consiglio europeo Herman von Rompuy che è un uomo completamente integrato nella pianificazione dell'euro e che sapeva benissimo quello che era successo e quello che sta succedendo capisca che per un motivo politico oggi questo disastro non è più tenibile sta veramente distruggendo l'Europa più velocemente di quello che loro volevano con molta più velocità cioè il paziente sta morendo troppo presto doveva vivere per portargli via gli organi bisogna tenere in vita un po' di più ok allora che si stia rendendo conto di questo è un fatto oggi si comincia a parlare di una larvale forma di Stati Uniti d'Europa con un'autorità politica centrale con un'autorità bancaria scusate con un'autorità di spesa cioè un ministero del tesoro centrale eccetera ma l'euro non è nato signora assolutamente non è nato con l'intenzione di essere una moneta di uno Stato europeo unito anzi è nato con l'intenzione contraria di spaccare l'Europa di distruggere in particolare l'Europa del Sud per vantaggio di due paesi che sono Francia e Germania la Francia però non mi pare che ci stia guadagnando tantissimo quello che mi chiedo tutti i paesi che fanno parte dell'eurozona che ci hanno rimesso grandemente in tutto questo periodo sia in come dire in ragione di qualità di vita sia in ragione di autonomia di autonomia politica di tutto proprio ci stanno riducendo ma non solo l'Italia tutti a nuove colonie allora per dirla con un francesismo come facciamo ad avere tutti i maroni sul ceppo di qualcuno visto che ci siamo cascati non solo in Italia cioè siamo un po' tanti qual è il chi è il burattinaio per dirla come va detta allora per rispondere alla domanda io ho pubblicato un saggio che si chiama il più grande crimine sono quasi 100 pagine scritto in collaborazione con questi 12 economisti internazionali di cui mi servo dove racconto esattamente la storia del burattinaio cioè come è accaduto che all'inizio degli anni 30 in Europa un gruppo di tecnocrati francesi e tedeschi si siano messi insieme per creare le basi per il ritorno del controllo della maggioranza della ricchezza nelle mani di queste famose elite di cui parlavo prima e l'economista francese François Perrou che peraltro lo dico sempre va ripetuto era un un uomo di Petain un filo nazista che andava perfettamente d'accordo con per esempio Hilman Schacht che era il governatore della banca della Bundesbank di allora contribuì alla pianificazione di questi tecnocrati con l'idea della moneta unica scrivendo trattati che apparivano regolarmente sulle riviste dell'ordine economico del maresciallo Petain del regime di Petain trattati in cui raccontava come una moneta unica avrebbe sottratto gli stati la loro ragione di esistere lui diceva è chiaro che se noi togliamo gli stati la moneta di fatto poi gli stati diventano gli zimbelli perché non hanno più niente in mano inoltre gli togli la moneta è finita per lo stato cioè cos'ha in mano a un Parlamento che senza soldi non può fare più niente senza gestione dell'economia può fare più niente ora questa pianificazione perché questi tecnocrati si sono mossi perché erano pagati dai gruppi industriali dell'acciaio franco tedeschi in particolare i Wendel e i Krups i quali avevano capito che un'Europa dove gli stati nelle ascenti democrazie loro sognavano anche l'Inghilterra poi l'Inghilterra è stata troppo furba ha vinto anche la guerra e poi nell'euro non c'è stata avessero fatto questo passaggio sarebbero diventati appunto degli schiavi del potere privato industriale e di fatto di chi aveva il maggior potere industriale di allora lei si ricorda che l'Europa nasce sulla comunità dell'acciaio e del carbone era la nostra ricchezza quindi era naturale che questi industriali dell'acciaio e del carbone capissero che esautorando gli stati loro sognavano di avere la grande industria della metallomeccanica dell'energia dell'acciaio e del carbone al centro del potere e tutti gli staterelli intorno come zimbelli ok e questo è stato l'inizio del progetto poi nella sua nella sua nel suo trionfo moderno perché ci sono voluti 70 anni per riuscire a fare questa moneta unica nel suo trionfo moderno si è visto che il progetto è rimasto comunque garante del potere franco tedesco d'accordo e si è visto che andava calzava a pennello un'idea di un'Europa a due velocità loro capirono negli anni 70 hanno capito che l'Europa si sarebbe spaccata in due velocità hanno detto qui se facciamo questa cosa è l'Italia la Spagna la Grecia il Portogallo l'Irlanda i paesi ci mettevano dentro anche il Belgio c'era anche il Benelux dentro a questa idea e anche il Benelux sarebbero diventati i paesi di serie B con in cima Austria Francia Germania Olanda Dalimarca e l'Inghilterra punto interrogativo ok questo era il progetto che si è puntualmente verificato esattamente quello che è successo i pigs e i maiali Portogallo Italia Irlanda Grecia e Spagna sono i paesi che sono caduti vittime di questa congiura chiamiamola pure per quello che è ed è quello che abbiamo davanti agli occhi di tutti ma perché? perché è ovvio che nel momento in cui tu prendi un paese che ha dei forti squilibri finanziari che in una situazione normale sono tutt'altro che squilibri sono squilibri sulla carta ma sono in realtà il bene del paese ma trasporti questi squilibri in una situazione dove il paese non può più emettere la propria moneta è colui che stava in cima crolla in fondo che si è visto nella produzione industriale capisce? è colui che invece stava in fondo perché magari aveva proprio un deficit troppo basso e non era riuscito a produrre un miracolo industriale come è stato in Italia schizza in alto perché? perché i mercati a questo punto se ti devono prestare i soldi dicono a un momento tu hai un debito molto alto a te li presto al 7% tu hai un debito molto basso anche se hai un'economia dei puffi chiamiamola pure tipo l'Austria tipo non so tipo l'Olanda eccetera i soldi te li presto a un tasso più basso l'Olanda che è un paese che economicamente faceva ridere rispetto all'Italia ma faceva ridere oggi è un paese che sta là sopra perché i mercati dicono hai un debito pubblico bassissimo eccetera ti presto del denaro a tassi molto più bassi e l'Olanda vola l'Italia che aveva un debito pubblico molto più alto ma era molto più ricca adesso deve prendere in presto tutti i soldi che spende dai tassi impossibili è crollato e precipitato in fondo e questo è stato il meccanismo salve buonasera volevo fare una domanda allora io volevo sapere con l'annuncio di Draghi di comprare in maniera illimitata debito presumo non immettere liquidità quindi indebitarci ancora di più nell'eventualità che lui compri che la BCE compri BTP bot quello che deve comprare volevo sapere perché la Germania si è opposta in maniera così dura a questo annuncio che poi era già scritto nei trattati quindi era palese che si avverasse ciò e invece la Germania si è immusonita e ha puntato i piedi su questa cosa qui la Germania non ha puntato i piedi ha puntato i piedi la corte costituzionale tedesca su due ingiunzioni che sono arrivate che loro dovevano esaminare perché sono tenuti a farlo per carità di Dio sono venuti volevo finire mi sono dimenticato di terminare la domanda volevo sapere per avere questi per avere questi questo salvataggio da parte della BCE noi dovremmo sottestare a che cosa da parte del Fondo Monetario Internazionale BCE Troica sì allora la Germania non si è opposta anzi tutto il tutto l'apparato politico tedesco al governo era completamente a favore poi era scontato dalla corte costituzionale tedesca non avrebbe mai accettato la responsabilità di far naufragare l'euro magari sarebbe forse successo ma comunque bocciando questo fondo salvatati e si è visto come sono finite le cose ovviamente come previsto la Germania la corte costituzionale tedesca ha approvato il fondo salvatati salvando di fatto l'eurozona che per noi appunto è una rovina l'intervento di Draghi specificamente è questo lui promette di usare l'emissore della moneta quindi colui che può emettere gli euro in maniera senza limite ovviamente senza limiti di spesa così come una volta era un governo che lo poteva mettere senza limiti di spesa per comprare titoli di stato sul mercato secondario dei paesi in difficoltà come Italia Spagna Grecia e così via Portogallo prima cosa perché Draghi fa questo? per lo stesso motivo che ho detto prima perché hanno capito di aver esagerato col gioco l'Europa stava crollando ad una velocità troppo era troppo velocemente gli stava sfuggendo di mano la cosa le aziende tedesche non hanno finito per niente di fare lo shopping a prezzi stracciate delle aziende italiane cosa che sta succedendo dappertutto specialmente in Emilia Romagna nella metalmeccanica non hanno finito gli investitori di guadagnare dalle speculazioni sui titoli di stati italiani ancora hanno da fare tanti soldi e così anche negli altri paesi quindi non hanno finito di creare sacche di disoccupazione talmente ampi da poter poi venire a delocalizzare le aziende tedesche in Italia pagando gli stipendi che pagano oggi in India ok e quindi siccome questo progetto non era termine l'Europa stava morendo prima di concludere il progetto Draghi è intervenuto bisogna essere molto chiari su questo è una scelta politica non è una scelta monetaria è intervenuto e dice compro titoli di stati di difficoltà sul mercato secondario ottenendo l'effetto che i rendimenti cioè i tassi di questi titoli scendono per cui per l'Italia il debito diventa meno gravoso l'Italia riesce a funzionare un pochino meglio e via dicendo ma soprattutto quello che si vuole ottenere è che i titoli dei giornali cambino questo è il motivo ho detto è un motivo politico per cui Draghi fa questa operazione non monetario l'idea è che il resto del Carlino non sto scherzando voi siete della zona emiliana il resto del Carlino non scriva più BCE spread Italia allarme la gente con l'ansia già si è stato messo in mobilità oltretutto apri il giornale la mattina al bar c'è scritto crisi dell'Europa spread l'Italia sul default ansia ansia questo si voleva ottenere e si è ottenuto che Repubblica che Corriere che i giornali dicessero tutto bene tutto risolto siamo a posto anzi l'euro funziona anzi Monti che ha distrutto l'economia italiana adesso vedrete che è crescita ok e via dicendo però attenzione che prima di fare questa cosa che ha già ottenuto il risultato voluto cioè i titoli sui giornali ma prima di fare nella realtà questa operazione il trattato la regola il trattato che regola questa operazione impone all'Italia di sottoporsi a delle maggiori austerità molto maggiori di quelle che abbiamo visto oggi a delle maggiori perdite di sovranità parlamentare e democratica ancora maggiori di quelle che abbiamo visto oggi anzi insomma siamo lì ok a tutta una serie di regole che sono esattamente quelle regole che hanno portato l'Irlanda e la Grecia dentro al terzo mondo dentro al terzo mondo letteralmente al terzo mondo per esempio l'Irlanda ha dovuto dare impegno al fondo monetario internazionale tutta la propria INPS tutta la cassa della propria INPS ha dato impegno al fondo monetario internazionale la quale tiene questa cassa lì e quel signore che prende la pensione domani potrebbe ritrovarsi senza la pensione se l'Irlanda non si comporta esattamente come gli dicono di fare i coloro che la governano dall'esterno poi qui il Parlamento governo non contano assolutamente niente eccetera l'Italia dovrà sottoporsi a questo trattamento prima di ottenere effettivamente da Draghi che Draghi compri i nostri titoli di Stato per far abbassare i nostri rendimenti questo è importantissimo da sapere vi ricordo per esempio alcune delle clausole che sono contenute in queste condizioni l'Italia non potrà più emettere titoli di Stato senza prima sottoporli a Bruxelles la Commissione Europea di Bruxelles cioè perdiamo sarebbe come dire io prima di comprare al mio figlio un paio di pantaloncini devo chiedere il permesso al vicino di casa se siamo a questo livello prima di dire al mio figlio che una cosa ha fatto bene una cosa fatta male devo avere il permesso di un signore che sta nell'appartamento davanti ecco questo siamo a questo livello di sovranità di perdita di sovranità l'Italia dovrà sottoporre la finanziaria di ogni anno al parere della Commissione Europea prima di sottoporre ai parlamentari cioè i parlamentari italiani sono la sovranità costituzionale suprema dello Stato perché rappresentano il popolo non possono verificare controllare la finanziaria del governo prima che l'abbia approvata la Commissione Europea e altre cose di questo tipo quindi questo va capito ovviamente che non solo sono perdita di sovranità ma anche le austerità quindi crollo degli stipendi pubblici taglio degli stipendi privati privatizzazione a man bassa taglio dei servizi pubblici privatizzazione dei servizi pubblici privatizzazione dell'acqua privatizzazione di tutti i servizi che oggi sono considerati comunali considerati pubblici per il cittadino e via dicendo buonasera io ho letto con piacere il suo usaggio di cui faccio i complimenti e seguo le conferenze su YouTube volevo chiedere magari una cosa può essere anche banale ma visto che conosciamo tutti il presente e si stava parlando appunto in questo momento del futuro delle privatizzazioni del totale crollo dello Stato cioè degli Stati e dello Stato sociale volevo chiedere se lei Barnard o suoi collaboratori come Parguez e altri vi siete posti un obiettivo sulla diffusione di queste teorie che poi sono molto semplici che tutti pensiamo a cose difficilissime un'economia molto difficile e invece abbiamo scoperto che è molto semplice anche da capire da spiegare in tutto e per tutto sì c'è un grandissimo economista americano che si chiama James Kenneth Galbraith Galbraith è figlio di un economista che si chiama John Kenneth Galbraith che è stato il consigliere di Roosevelt e di Kennedy eccetera e al quale ha scritto una frase che io mi porto sempre dentro e che ripeto con tutte le volte che mi viene dato l'occasione di dirlo ha detto se la gente si rendesse conto di come è semplice creare moneta per uno Stato e di come è semplice gestirla la gente avrebbe in mano il potere di regolare lo Stato è che purtroppo i cittadini pensano di istinto che una cosa così deve essere talmente complicata non è possibile che sia così semplice deve essere molto più complicata allora dicono vabbè lasciamperda tanto non ci arriverò mai non riuscirò mai a capirlo per cui abdicano i cittadini al potere di capire la moneta il funzionamento della finanza dello Stato per cui abdicano alla propria sopravvivenza perché lasciano nelle mani di qualcun altro questi criminali neoliberali e neoclassici la gestione delle proprie vite ora noi facciamo il 20 e 21 di ottobre a Rimini e a Sardegna Cagliari ma a voi non interessa credo il 27 e 28 una conferenza con tutti questi economisti che avete visto dove stileremo un manifesto nazionale dell'uscita dell'Italia dall'euro del recupero della sovranità monetaria del recupero della sovranità parlamentare del recupero della produttività delle aziende italiane del recupero del lavoro italiano del recupero dei servizi italiani un manifesto dettagliato che guida il cittadino punto su punto su come chiedere e cosa rispondere quando il cittadino chiede alla politica di salvare l'Italia e portarla fuori dall'euro cioè vogliamo dare un pamflet in mano al cittadino dove il cittadino sia in grado di dire al proprio politico di riferimento guarda che questo è stato fatto da 4-5 dei maggiori macroeconomisti del mondo internazionale qui c'è scritto come uscire da questo disastro io sono d'accordo su questo ok questo è il mio programma economico voglio che voi politici lo portiate in Parlamento questo lo andiamo a fare a Rimini ovviamente una cosa di questo genere costa molti soldi va preso un enorme posto va pagato i traduttori voli d'aereo alberghi eccetera noi chiediamo a chi vuole partecipare a questa occasione che per me è una conferenza salva vite e salva nazione letteralmente si parla di salvare l'Italia da questo disastro chiediamo un contributo per i cittadini di 40 euro a testa e sono tutti gli estremi sul mio sito per fare il versamento c'è il volantino da scaricare c'è tutto speriamo di riuscire entro il 5 d'ottobre ad avere la cifra necessaria perché entro il 5 d'ottobre dobbiamo decidere se questa conferenza si farà o no ma la risposta alla sua domanda è questa questi sono i mezzi di diffusione di massa migliore poi è vero che mi chiamano a Rai 2 una volta oppure a Sky mi hanno chiamato però una volta di morte di Papa non sono quelle le occasioni che fanno la diffusione sono queste oppure appunto questa conferenza dove speriamo di dare uno strumento in mano a ogni cittadino Buonasera io volevo chiedere questo siccome l'Italia è come dicono è un paese fortemente a rischio in crisi addirittura c'è un clima di guerra come dice Monti io volevo dire questo perché la classe politica non invece di giocare con le parole di rimandare le prossime legislature le proposte di diminuire il numero dei parlamentari non cominciano loro già da subito a tagliarsi una parte di stipendio perché io mi trovo nella situazione di essere un esodato nel senso che l'Inps mi ha detto te non vai in pensione nonostante che ho i diritti e mi hanno tagliato fuori non so per quanto tempo allora io dico questo rovinando me che sono un operaio non è che io salvo l'Italia però se i politici se quelli che prendono le pensioni d'oro cominciassero già a ridurle da lì non si potrebbe ottenere già qualcosa di più guardi questa è una cosa importante perché purtroppo è diventata una retorica nazionale devastante dal mio punto di vista lei deve capire l'ampiezza dei conti di uno Stato gli stipendi della casta così come viene chiamata oggi sono i spiccioli del caffè nei conti dello Stato cioè io potrei anche avere un Parlamento che lavora gratis e riuscire a salvare in Italia non so capito uno 0-2% dell'economia forse meno dello 0-2% lei deve capire che noi siamo un paese che ha bisogno di 3-400-500 miliardi di euro di finanziamenti ogni 2-4-6-8 mesi non metti insieme 400 miliardi di euro con gli stipendi dei parlamentari mi permetta non paga le infrastrutture non paga i servizi pubblici non paga le strade non paga gli stipendi non paga la cassa integrazione non ce la può fare in quel modo questa è una retorica completamente vuota sciocca stupida e scusatemi idiota che è portata in giro per l'Italia da questi falsari dell'informazione che vendono libri gadget fanno spettacoli teatrali prendono per il culo gli italiani da 15 anni e non sanno di cosa parlano non si va da nessuna parte io sarei dell'idea di triplicare lo stipendio dei nostri parlamentari a patto che mi applicassero questa politica economica io glielo triplico lo stipendio a un parlamentare gli do 50 auto blu anche alla moglie non me ne frega niente ma se tu mi applici questa roba qua tu mi porti il paese dalla rovina alla ricchezza e guarda puoi essere grico quanto vuoi non me ne frega niente lei capisce che questi stupidi che portano avanti queste idee non chiedono l'economia salva stato alla politica stavano d'accordo con l'austerità dicono sì sì bisogna fare l'austerità perché l'Italia è un paese di spendacioni poi però ah però gli stipendi parlamentari devono calare così salviamo l'Italia ma che stiamo scherzando ma cosa salviamo non ti ripeto guardi non salviamo neanche gli spiccioli del caffè dell'Italia mi creda queste sono cose che purtroppo a me danno un fastidio tremendo perché sono periti di tempo e hanno 500 volte le visibilità che ha l'economia seria di cui stiamo parlando noi intanto buonasera la prima cosa che volevo dire è anche complimenti per l'esaustività della conferenza che ha veramente aperto molti anzi riempito molti buchi vuoti che tutti avevamo dal mio punto di vista quello che volevo chiedere non ha a che fare su come ne potremmo uscire e quant'altro io volevo soltanto togliermi due curiosità una che non avevo ben capito in un discorso la Germania ha barato che c'era ancora il marco oppure ha barato che c'era anche che c'era già l'euro questa è la prima domanda la seconda domanda la quale tengo particolarmente fra le varie valle o palle che hanno raccontato in tutti questi anni ce n'è una in particolare in pratica l'Italia nel 1992 peggio di così non poteva andare quindi a quel punto lì non ci arriveremo mai io volevo capire cosa è successo effettivamente nel 92 quando l'Italia è uscita dallo SME che ci hanno dato questo terrorismo pazzesco grazie allora la Germania ha barato col marco ho detto prima la Germania ha operato l'unificazione attraverso col ha cominciato a lavorare l'unificazione già col marco e oltretutto con l'aiuto di fondi neri che venivano dalla Francia quindi ha barato col marco e ha stavo parlando infatti ho citato l'epoca del post Tangentopoli quindi Andreatta ho citato il commissario europeo Van Miert e il libro bianco di Bassanini insomma siamo nell'epoca dove ancora c'erano le monete sovrani su questo non ci sono nombri di dubbi ha barato col marco il discorso del 92 è questo l'Italia era nello SME cioè quindi cos'era successo era un altro era un diciamo un mini euro per capirci cos'è sempre la Germania perché questi scesi sempre di fregarci guardate io lo dico una cosa questo ricordate la Germania ha accettato l'euro per fottere l'Italia questo io ve lo do per 100% perché non c'era motivo per la Germania di rinunciare al marco se non in cambio della distruzione della base industriale italiana perché ricordatevi quel grafico della banca d'Italia la Germania era sotto l'acqua era sotto non riusciva a uscire dal buco industriale in cui si era cacciata d'accordo l'Italia era la prima produzione industriale in Europa la metalmeccanica italiana l'industria italiana il malfatturiero italiano stava rovinando la Germania anche quell'altro le colonnine che avete visto questo si rifletteva non solo sulla produzione interna ma soprattutto sull'estero quelle colonnine che avete visto la Germania era sotto nel 96 è stata sotto fino all'euro dopo con l'euro boom è in latino alto l'Italia è corollata in basso la Germania accetta l'euro per ridistruggere l'Italia negli anni 80 la Germania si inventò lo SME che era un altro sistema per fregare l'Italia era di sottrarre sempre ai paesi che facevano parte di questo sistema la sovranità monetaria non era un euro l'Italia manteneva la lira ma agganciava la lira alle altre monete europee volevo dire che in pratica per essere semplici la libertà di manovra dei ministri della finanza italiani non c'era più non potevano più spendere e mettere la moneta liberamente come hanno sempre fatto prima e dopo ok erano legavano le mani legate dal fatto che l'Italia aveva agganciato la sua moneta alle altre monete europee per cui non poteva più fare questa operazione che cosa succede che cosa succede all'Italia dello SME proprio perché viene a ho detto è una specie di mini euro ok l'Italia perde la sovranità monetaria quindi perde il potere cartalista di cui abbiamo visto all'inizio guardate questa questo l'ho saltato io ma ve lo ve lo faccio vedere molto rapidamente perché ho proprio il grafico adatto è qua eccolo qui un attimo ok questa è l'Italia che entra nello SME negli anni 70 questi qui siamo sempre alla bilancia commerciale cioè il potere dell'Italia di vendere la propria produzione industriale all'estero in concorrenza ovviamente con gli altri paesi in particolare con la Germania allora cosa succede succede che l'Italia entrando nello SME perdendo la sovranità monetaria crolla nelle esportazioni guardate il grafico siamo sotto zero per tutto guardate il crollo dell'Italia nel periodo dello SME tutto fino al 92 citato dal Signore ok questa perdita di valore industriale italiano aveva portato l'Italia a dei problemi gravissimi di bilancia dei pagamenti a dei problemi gravissimi di finanza nazionale l'industria italiana era sotto l'acqua ma non per un anno per tanti anni ok per cui ci presentiamo al 92 con l'Italia che è considerato un paese a rischio perché la produzione industriale italiana è sotto l'acqua la ricchezza che entrava dall'estero si è perduta il paese è al naspa d'accordo e nel 92 si parla di una crisi epocale dell'Italia di un default addirittura si arrivò a parlare proprio del default dell'Italia l'Italia non ce la fa più perché vi ricordatevi sempre questo schema lo schema delle frecce allora o i soldi qua da noi entrano in questo modo o entrano in questo modo qui si era chiuso il rubinetto completamente l'Italia aveva un ammanco finanziario spaventoso lo Stato faceva fatica a intervenire proprio perché ignorante delle potenzialità libere di una moneta cartellista faceva fatica a intervenire aveva potuto facilmente intervenire ma faceva fatica a intervenire ad ampliare questa freccia che era già ampia ma ad ampliarla tanto quanto era necessario a sopperire per la chiusura di questa freccia l'Italia si presenta con dei problemi economici spaventosi nel 92 ok poi cosa succede e si parla addirittura del default succede che uno speculatore internazionale che si chiama George Soros che capisce bene la funzione della moneta parte con una speculazione contro la Gran Bretagna e l'Italia d'accordo l'Italia non riesce a sostenere questa questa svendita questo crollo del valore della lira italiana causata dalla speculazione di questo singolo speculatore internazionale il sistema monetario europeo vede l'Italia che non può più sostenere la propria posizione al suo interno Italia e Inghilterra escono dallo smè lo smè crolla finisce cioè quello che dovrebbe succedere oggi che io auspico succeda oggi che ci sia un crollo del sistema europeo in cui l'Italia esce se ne va il default dell'Italia sarebbe la fortuna dell'Italia avere la scusa il pretesto per schizzare fuori da questa trappola nel 92 l'Italia fa il botto non ce la fa stare dentro lo smè a causa di questa speculazione di colpo esce ma di colpo dalla mattina alla sera guardate il grafico non so se vi capite cosa dice il grafico questo è stato il 92 e questa è di nuovo la dimostrazione infatti lo metto nella mia presentazione prima di questo quella è di nuovo la dimostrazione che quando si recupera la piena sovranità monetaria il paese in un modo o nell'altro riesce a risollevarsi o tornando a diventare competitivo internazionalmente o rimanendo competitivo e ricco all'interno buonasera premetto che io sono completamente digiuno di economia di qualsiasi tipo di questi argomenti però mi è sembrato molto semplice capire quello che lei ha esposto e mi sembra paradossale che nei 70 anni che lei illustrava nessuno si sia accorto nessuno abbia fatto niente non ci sia nemmeno nessuna parte politica né di destra né di sinistra chiunque noi abbiamo cercato di eleggere che ha minimamente denunciato capito quello che stava succedendo è semplice lei anche nella risposta all'ultima domanda che ha fatto il signore ha parlato sempre di in qualche modo inganni che sono stati fatti come è stato possibile questo visto che è così semplice guardi la risposta è semplice anche la risposta in realtà è semplice se uno ci si smazza la testa come un disperato come ho fatto io e si studia una quantità di roba impressionante accetta di concepire l'inconcepibile cioè accetta di dire tutta la vita fino a bambino mi hanno detto che il debito pubblico è un problema adesso devo accettare che il debito pubblico non lo è anzi è l'attivo dei cittadini accetto nella mia testa di capire che il denaro non ha valore se hai messo quindi accetto tutta una serie di aperture mentali primo poi studio come un disperato ok e a quel punto capisco il sistema poi lo prendo lo rielabro lo semplifico e lo porto al pubblico ora lei capisce che questo per un politico un parlamentare un deputato di una qualsiasi circoscrizione qui nella zona eccetera è un'operazione impossibile prima perché sono in media delle persone molto mediocre in secondo luogo perché non hanno il tempo non hanno la voglia e la politica funziona in questo modo io nel mio saggio ho descritto con le prove i nomi i cognomi eccetera come funziona il lavoro della lobbistica che cos'è la lobbistica in politica i lobbisti e le think tank che producono i lobbisti sono organizzazioni dove si fanno dei riassuntini semplici semplici dei temi dell'economia della scienza della medicina dell'agricoltura dell'industria eccetera molto semplici semplici li si sottopongono ai politici e si dice ai politici quando andate in Parlamento quando andate a fare i comizi quando siete in televisione dite questo allora non so la quota è latte quota è latte il parlamentare qui della zona è che di mestiere faceva il medico e che non sa niente di economia la quota è latte non capisce niente l'agricoltura meno che meno cosa cavolo va a dire in Parlamento sulle quote è latte va da Santoro e cosa dice delle quote è latte schemino l'altro parlamentare che faceva l'avvocato quindi di economia capisce un tubo di macroeconomia meno che meno di bilancio settoriali finanza spread titoli di Stato niente capisce a zero deve andare in Parlamento deve andare in televisione è fermato per la strada dalla striscia di notizia eccetera cosa dice del debito pubblico schemino deficit sbagliato debito dei cittadini questo fanno i lobbisti presentano questi resoconti semplificati alla politica per cui i politici si limitano a dire quelle cinque parole che sono sempre tutte uguali e tutti le dicono identiche ok per cui non fanno nessuna operazione di acculturamento lo ripeto da una parte li giustifico nel senso che dico bisogna farsi dei mazzi spaventosi dall'altra però non li giustifico perché allora se tu sei medico sei parlamentare qui della zona ma non capisci un tubo d'economia ma devi andare a votare il fiscal compact cavoli sei parlamentare ti prendi il portaborse che studenti di economia eccetera che si fa un mazzo così e te lo spiega almeno fai questo almeno fai questo avete visto quando ero all'ultima parola direi due che c'era la giornalista che andava in giro a dire avete votato il fiscal compact cos'è non sapevano neanche cos'era ma neanche avevano letto niente e la politica accetta queste cose in questo modo quando finisco con la risposta io so perché andai in Parlamento a intervistare per report i parlementari quando l'Italia ha firmato il trattato di Marrakesh che è il trattato che porta l'Italia nell'organizzazione mondiale del commercio cioè la globalizzazione ecco va bene per capirci andavo molto di moda questa parola dieci anni fa quando l'Italia è entrata nella globalizzazione firmando il trattato di Marrakesh io andai in Parlamento non c'era un parlamentare non c'era un parlamentare che l'avesse eletto uno non ho trovato uno e hanno ratificato e firmato un trattato che ha avuto ripercussioni spaventose per l'industria italiana ha rovinato un'intera regione come le Marche dove il manufatturiero delle scarpe è morto questi hanno firmato vedete conto cosa vuol dire in termini di aziende famiglie redditi persone figli padri di famiglia questi hanno firmato così senza sapere neanche cosa firmavano perché? perché la globalizzazione era la modernità basta e questi sono i politici cosa vuol fare? accettano tutto accettano il trattato di Lisbona hanno accettato il fiscal compact hanno accettato l'euro l'eurozona nessuno ha capito come funzionava l'euro io quando dico l'euro viene messo dalla BCE e nelle banche mi guardano come se fosse un marziano ma come l'euro è messo l'euro è nostro no no non è nostro è della BCE ma come non è dell'Italia no non lo sanno scusa solo per replicare a quello che stavi dicendo ma possibile cioè capisco il consigliere di circoscrizione ma anche noi abbiamo degli economisti in Italia nessuno nessuno e anche scusa? anche noi abbiamo degli economisti in Italia cioè non solo il consigliere di circoscrizione non capisce questo meccanismo anche ma sì anche i giornalisti economici cioè no giornalisti economici lasci perdere questo lo dico con autorevolezza se tu vuoi mantenere lo stipendio il posto di lavoro le cose non le devi dire punto guardi lasci stare io a Rimini abbiamo avuto una telefonata di un giornalista della Sette che è partito da Milano a 20 km da Milano gli hanno telefonato dove vai? a Rimini da Barnard torna indietro va bene? questo no non i giornalisti lasci perdere allora gli economisti dipende da che scuola vengono ci sono una frotta di economisti in Italia che queste cose le capiscono sono tutti docenti universitari e sono tutti dei vigliacchi io ho litigato con questa gente sono proprio diventato infame per loro perché li ho accusati pubblicamente di essere dei vili d'accordo? perché fra di loro dei piccoli gruppettini scrivono dei papiri marxisti delle robe che non si capisce niente di quello che è però queste cose le sanno le dicono e fra di loro non si sono mai esposti pubblicamente e voglio dire se uno stessa un cesarato un brancaccio gente che ha delle cattedre nelle università italiane si facesse quello che faccio io la gente comincierebbe a sentire le certe cose anche perché Paolo Barden è un giornalista ma se un docente universitario di una cattedra di economia dice la stessa cosa che dico io per favore mi dai una certa mano dico bene e questi non dicono niente perché hanno paura perché perdono la cattedra ok ecco questo è il discorso poi ci sono tutta un'altra serie di economisti che sono formati dall'altra scuola che è quella vincente la scuola neoliberista neoclassica e questi diranno tutte le cose che dice Boeli Giavassi che dicono i Monti e tutta questa gente qua però ci sono delle note eccezioni un economista molto noto molto noto molto in alto che è Giulio Sapelli che è un uomo dell'ENI è stato un grandissimo tecnocrite dirigente dell'ENI insegna a Milano all'università eccetera eccetera andatevi a cercare Giulio Sapelli la 7 da Lilly Gruber andate a sentire cosa diceva cosa ha detto dell'economia dice le stesse cose che dico io peggio insulta Monti dice che un ignorante che l'euro ha portato l'Italia alla rovina dice esattamente le stesse cose che dico io ma ce n'è uno Giulio Sapelli uno salve ormai a varie domande che avevo è già stata data risposta volevo dire io ho letto recentemente il tuo libro ed è stato ho apprettato molto la lucidità e la passione con cui l'hai scritto e il lavoro che stai facendo lo appretto motivo per cui ho fatto un'ora di strada per venire qua è vero a Rimini immagino è stato scioccante però mi ha svegliato allora la domanda mia che si accoda a quest'ultima che è stata fatta è dove eravate voi dove eri tu quando dovevamo votare per l'euro quando dovevamo decidere per l'euro sì no perché io non l'ho sentito allora tutto quello che sento adesso perché nel 2000 allora a parte che non abbiamo mai dovuto votare per l'euro questo nessuno ci ha mai chiesto di votare a parte questo ma voglio dire nel 2000 io mi occupavo di globalizzazione mi occupavo di sempre di questi temi di economia stavo studiando come funzionava il grande quadro di chi veramente controlla le vite delle persone delle aziende delle famiglie eccetera e non ero entrato in contatto con nessuno che mi avesse potuto spiegare come stava funzionando l'euro e rignarlo completamente di tutto il progetto poi ho avuto la fortuna e le dico guardi che è stato io ho un merito e una fortuna il merito è stato quello di essermi allontanato da tanti anni dall'idea che il potere sta a Palazzo Chigi o sta in regione qui in Emilia Romagna non sta lì il potere lì sta la parocchietta del potere quello l'avevo capito quindi 12-15 anni fa l'euro è stata questa cosa dell'eurozone è stata una fortuna perché mi sono interessato di banche e di meccanismi di creazione di mezzo delle banche volevo capirci qualcosa non trovo nessuno in Italia che mi aiutasse a chiarire bene queste cose mi sono rivolta degli americani molto autorevoli i quali mi hanno pian piano portato su questa strada e per me è stata veramente un'illuminazione mi ricordo in particolare una notte che ero su Skype con uno di questi economisti che salta fuori questa storia dell'euro emesso da non è italiano non è una moneta di nessuno eccetera eccetera e mi sono buttato a capofitto mi dispiace non essere arrivato prima sono arrivato nel 2000 sull'euro sono arrivato nel 2009 e nel 2010 meglio tardi che mai sono arrivato ecco voglio dire ci sono arrivato e ho messo il mio nome sul ceppo la mia testa sul ceppo perché poi lei sa come è andata la mia carriera ovviamente cioè io stavo da una parte e poi e così ho peggiorato le cose e basta però pazienza scusi lei è stato co-fundatore di reso quindi per la discussione di questo di questo grande problema si potrebbe anche cercare di sensibilizzare la gabanella a gabanelli si tiene stretta una poltrona che si è coltivata con tanti anni di ma scusi ma guardi voglio dire mi permetta secondo lei in questo paese si riesce a stare in prima serata in televisione cinque anni consiglio Berlusconi se uno è una persona libera gabanelli è stato cinque anni con lì e non è una persona libera proprio di questo volevo parlare buonasera professore e che ci sono delle evidenti responsabilità in quello che sta succedendo perché se è vero come insomma lei a meno da quanto ho capito io insomma i tedeschi ci hanno tirato un gran pacco ecco per dirlo alla napoletana insomma e il panorama che si prospetta è terribile insomma diciamo terrificante per usare insomma termine quasi leggero rispetto a quello che adesso non so se anche nella platea se ne renda conto però effettivamente insomma quello che lei ha descritto è una cosa di proporzioni catastrofiche allora quanta responsabilità hanno questi vigliacchi a cui le facevo riferimento cioè gli va presentato anche un conto oppure insomma va tutto bene così cioè ritorniamo nella lira e va tutto bene e nel caso in cui non riuscissimo insomma ad uscire dall'euro e a tornare nella lira cioè qua il conto a mio figlio cosa gli dico a chi lo deve presentare i tedeschi o ai vigliacchi che hanno venduto l'Italia il conto il conto non si può chiedere ovviamente in termini economici non si può chiedere il conto noi dobbiamo riprenderci una sovranità parlamentare monetaria dobbiamo rilanciare il paese alla grande e molto di più di quello che lo abbiamo rilanciato negli anni settanta e il conto non si può chiedere a nessuno in realtà quello che si può fare è e io l'ho fatto e io alcuni e pochi l'abbiamo fatto è chiedere un conto giudiziario io auspico che siano incriminati e arrestati personaggi come Draghi Monti come Napolitano come i burocrati italiani che lavorano in commissione europea cioè gente che coscientemente perché sono tecnici hanno e il discorso di Napolitano è separato sono tecnici che hanno coscientemente e scientemente consegnato il paese a una distruzione alla rovina al paese a sofferenze umane che sono incredibili da parte quello che va sul giudice giornale che è l'imprenditore che si dà fuoco ma cioè come vive una persona tutte le sere in casa propria quando vede il lavoro di una vita distrutto perché ha un libro ordine da sei milioni di euro e la banca non ti dà cinquemila euro non te ne dà diecimila capito cioè con sei milioni di euro di ordini sul libro e questa è una realtà un'imprenditrice non il cognome gliela posso presentare ci ho parlato l'altro giorno sono andati in banca ho chiesto diecimila euro non me ne è andati ho le macchine ferme i lateristi fa dei lateristi l'azienda ferma con ordini che piombano tutte le parti voglio dire come si sente una persona così come si sente una persona che è appunto una persona in mobilità un esodato voglio dire ragazzi ma sono sofferenze umane che sono spaventose allora questa gente che è responsabile di crimini sociali perché poi queste cose si riflettono sui figli perché in famiglia non si cresce bene quando papà è a casa dal lavoro capito scappano le mani c'è nervosismo eccetera allora si riflettono sui figli il bambino si ricorda degli anni che ha vissuto in quelle condizioni sono destini tarpati perché quel bambino potrà fare un'altra cosa nella vita non la potrà fare perché è successo quello che è successo tutto questo calcolato a tavolino tutto questo voluto da questi criminali che vogliono distruggere il sistema economico del sud Europa voglio dire questa gente che va incriminata e arrestata ci sono gli articoli del codice di procedura penale che abbiamo citato nella denuncia io li ho denunciati quindi il conto lo chiedo così con una denuncia penale per questa gente sì, il punto che io partirei proprio da lì insomma con delegittimazione di tutto quello che è stato fatto arrestando queste persone incriminandoli di crimini insomma efferati ragione però vede il problema è questo io ho lanciato questa denuncia io è un altro avvocato che non sono avvocato è un avvocato che si chiama Paolo Amuso abbiamo lanciato questa denuncia però la risposta cosa è stata? poche centinaia di persone se in Italia 30.000 persone denunciavano era una notizia che andava su New York Times capisce le cose cominciavano a cambiare è così che si cambiano le società ragazzi con un po' di coraggio ma è una cosa che non ha avuto successo il conto lo chiederai in questo modo altro non c'è da chiedere io volevo parlare di fantascienza diciamo che ci si riesce che quindi rinserviscono improvvisamente chi ci sta governando usciamo dall'euro ci riprendiamo la nostra moneta cosa ci dobbiamo aspettare nel senso che io non credo che chi finora ha cercato per ben due volte anzi ci ha riuscito per ben due volte a tirarci dentro un meccanismo di spossessamento della sovranità monetaria se ne possa star tranquillo a vederci uscire anche perché quando solo la Grecia ha accennato alla possibilità si sono affrettati a finanziare per evitare il famoso default quindi mi pare che esatto allora la risposta completa esaustiva la sua domanda è nel summit del 20 e del 21 a Rimini dove per due giorni questi grandi economistici faranno il manifesto completo dell'uscita dell'Italia dall'euro con tutti i passaggi cioè tutto quello che va fatto per uscire e per uscire bene e per continuare ad andare bene dopo l'uscita dall'euro ok vedremo di fare il possibile ma il problema è che bisogna riuscire a fare il summit in sé perché per adesso le donazioni non stanno arrivando molto per cui dobbiamo raccogliere una cifra molto alta e speriamo che la gente aderisca anzi invito vabbè comunque non vado a fare le serate a chiedere i soldi ma per dire in breve quello che ci si può aspettare per un'uscita dell'Italia dall'euro gestita con questa economia secondo la modern money theory è un paese che non solo si rilancia ma probabilmente porta giù porta al crollo l'intera eurozona e questo fra l'altro col risultato di eliminare alla radice tutto il debito che abbiamo denominato in euro fra l'altro che se ne va in fumo quindi già dici è un bel guadagno l'Italia può uscire dall'euro creando la piena occupazione creando il pieno rilancio delle sue infrastrutture la moneta italiana la nuova lira si apprezzerebbe immediatamente perché diventa una moneta di cui c'è un grande bisogno in tutto il paese perché bisogna pagare le tasse in lire chi ha l'euro vende euro per comprare lire si deprezza l'euro si apprezza la moneta non solo questo ma lei deve capire che nel momento in cui il paese recupera la propria sovranità di spese recupera anche la sovranità di pagamento dei titoli di stato cioè qual è il problema di oggi per cui noi non solo dobbiamo andare qua a chiedere ogni singolo euro che spendiamo esattamente come il cittadino va alla finanziaria la finanziaria privata sotto casa esattamente uguale quindi a tassi di interesse assolutamente impossibili un dipendimento sull'altro eccetera il problema è che quando l'Italia adesso emette titoli di stato d'accordo e lo fa per andare a prendere i soldi qui questi investitori dicono noi non ci fidiamo perché avete le finanze in disordine perché siete un paese che sta crollando economicamente c'è una spirale di deflazione economica molto importante chiudono le aziende chiudono persi perdono posti di lavoro eccetera allora ci caricano dei tassi di interesse enormi perché chi compra il nostro titolo dice io te lo compro ma mi devo proteggere dal rischio per cui ti chiedo un tasso spaventoso quando recuperi esci dall'euro recuperi la tua capacità di pagare si chiama ability to pay in finanza ok questo motivo decade sparisce completamente l'investitore non ha più timore che questo stato non sia più in grado di onorare i titoli di stato che compra crolla completamente la paura cioè si sparisce si dissolve perché si capisce chi conosce la moneta capisce che questo stato può trovare tutto il denaro che vuole per onorare i titoli perché semplicemente se lo inventa per cui i rendimenti dei titoli di stato crollano allora l'Italia diventa un paese che ritorna immediatamente affidabilissimo l'investimento in Italia è affidabile gli investitori tornano ma tornano perché con tutto il rispetto non vanno a investire in Grecia non voglio essere per carità capito ma l'Italia è un'altra cosa dalla Grecia abbiamo avevamo la più grande industria in Europa abbiamo delle infrastrutture moderne abbiamo una capacità aziendale che è la prima al mondo era ma è ancora potenzialmente la prima al mondo cioè noi facciamo le scarpe a tutti all'America al Giappone a chiunque come piccola e media impresa l'investitore torna a investire in Italia capisce? a frotte queste cose sono molto chiare e sono le cose che non si vuole che il pubblico sappia perché il pubblico deve essere e rimanere nella terrore che l'uscita dell'Italia dall'euro vuol dire che andiamo nello Zimbabue è esattamente il contrario siamo oggi nello Zimbabue e torniamo Italia uscendo dall'euro capisce? innanzitutto buonasera volevo sapere se la MMT c'è già qualche paese che usa questo metodo di moneta e in che modo stanno andando ecco certo c'è un paese che usa la MMT senza ovviamente ufficialmente dire che è MMT e che credo che economicamente sia andando piuttosto bene che si chiama la Cina Cina fa la MMT poi c'è un altro paese che fa la MMT in un settore molto particolare che ha fatto molto bene da un certo punto di vista si chiama Wall Street JP Morgan Morgan Stanley Bank of America e Wachovia e c'è un'altra e un'altra che adesso non mi viene in mente sono banche che hanno ufficialmente adottato l'analisi del funzionamento del funzionamento del fissamento dei tassi di interesse espresso dall'MMT per guadagnare quello che hanno guadagnato in questi anni perché hanno capito benissimo che laddove esisteva una sovranità monetaria i tassi avevano fatto un certo percorso cioè al crollo come è successo in America come è successo in Giappone in Inghilterra dove adesso i tassi sono a livello più basso nella storia del paese da sempre e hanno scommesso su questo hanno fatto dei miliardi comunque la Cina usa l'MMT l'Argentina ha usato per uscire dal default argentino ha usato una parte di MMT nel periodo in cui ha usato anche solo una parte di MMT ha avuto in tre anni la maggiore crescita economica al mondo dopo tre anni da default l'Argentina era il paese che cresceva di più al mondo aveva una crescita dell'8% poi ha smesso di usare quella parte dell'MMT ed è ritornata ad avere dei problemi nonostante sia ancora un paese che va piuttosto bene nella media su modern money theory la teoria economica quello che molto di quello che vi ho spiegato cioè proprio si ricorda che ho detto che noi cominciavamo con questi economisti i padri storici di questa teoria economica cioè la teoria che parte che parte dal cartalismo che dice lo Stato può funzionare in questo modo i tassi di interesse si fissano in questa maniera i rendimenti sono questi si può creare la piena occupazione con la spesa interna si può creare il rilancio delle aziende con la spesa interna eccetera eccetera volevo fare un'altra domanda abbastanza poco bella perché dal momento che gli italiani sono un popolo che hanno sempre paura del cambiamento e nonostante la rovina pensano che chi stia al governo dopo tutto abbia sempre ragione la domanda è questa poniamo l'ipotesi negativa che Monti va davanti si candidi alle prossime elezioni e vinca io volevo sapere a livello neanche economico perché ne abbiamo parlato tutta la sera ma a livello sociale cosa ci dobbiamo aspettare cioè ci dobbiamo aspettare una guerra oppure andremo proprio al centro della terra senza fare niente e moriremo lentamente domanda grazie io questo non glielo posso dire se devo prendere l'esempio greco e spagnolo andremo al centro della terra senza fare niente purtroppo vede loro contano molto sul fatto che il cittadino già in sé si sente ignorante e disarmato il cittadino già in sé è obnubilato dall'esistenza commerciale e dalle ansie private in più l'effetto depressivo di una crisi deflazionistica di questo genere quando tu hai intorno a te l'economia che si sta sbriciolando chiudono i negozi chiudono le aziende la gente ti arriva a casa nel tuo quartiere già hai uno due dieci cinquanta cento disoccupati l'effetto depressivo di questo deprima ancora di più loro contano sul fatto che la gente è angosciata depressa smarrita ignorante ignorante nel senso di non conoscitrice dell'economia alla fine rinuncia non sa come muove non sa come fare semplicemente subisce noi facciamo questa opera che è unica in Italia forse anche al mondo noi portiamo l'economia dello Stato al pubblico non è mai successo nella storia d'Italia del 1948 a oggi che qualcuno prendesse il pubblico e dice adesso ti insegno come funziona uno Stato ma è successo ti insegnano come ti possono fare dei corsi per farti capire come funzionano le partite doppie di un'azienda ma non come funziona l'economia di uno Stato perché se il cittadino si rende conto di come funziona il cittadino può pretendere dalla politica che funzioni questo è e questa è una parte della MMT che è molto importante MMT è una parte molto importante perché è una delle cose che non va dimenticata e prima che è andata a casa non la dovete dimenticare è che non solo lo Stato può indebitarsi con se stesso illimitatamente come ha fatto il Giappone come fanno gli Stati Uniti che hanno un debito pubblico che aumenta sempre dal 1837 e non hanno mai ripagato e non sono mai falliti non solo si può fare con l'operazione di spendere di più di quanto si tasse su base permanente creando ricchezza all'attivo nella cittadinanza nell'azienda eccetera ma il discorso delle tasse è estremamente importante è estremamente importante perché oggi una delle cose che usano uno dei fantasmi inflazione Zimbabwe l'Italia indebitata il debito degli impoti eccetera un altro dei grandi fantasmi è il fantasma delle tasse dire ah ma l'Italia è un paese che comunque ha un'evasione fiscale per cui se solo recuperassimo quella già andremo tutto a poco non è colpa dell'euro non è colpa di monti sono gli evasori italiani qua ce ne sono un pacco ok gli evasori italiani che sono la causa di questa disgrazia attenzione con molta serietà con molta serietà io vi devo dire che questo è un senso di colpa fra i più micidiali e infondati nella storia dell'umanità dopo quello cattolico del sesso ok cioè veramente credo che dopo quello del sesso questo sia il secondo senso di colpa più micidiale e infondato della storia dell'umanità allora chiariamo una cosa cosa sono le tasse le tasse sono un prelievo dello Stato dai cittadini lo Stato spende e poi prelieva dei soldi ma se lo Stato crea il proprio denaro da nulla così com'è perché il dollaro non lo crea non so chi lo crea il governo americano è di proprietà del governo americano lo yen la lira era italiana era di proprietà dello Stato italiano se lo Stato spende e poi tassa com'è possibile che le tasse finanzino la spesa voglio dire come faccio io a ritirare i biglietti dello stadio prima di averli dati è impossibile non posso tassare prima di aver speso come faccio io a dire ok la tua IRPEF è questa se prima non ho trovato le lire le lire tu non le puoi creare le creo io e te le do circolano in questo modo d'accordo allora com'è possibile che io ti possa tassare prima di aver speso come fanno le tasse a finanziare la spesa dello Stato non è vero le tasse non finanzano la spesa dello Stato è matematicamente e logicamente impossibile lo Stato prima spende e poi tasse d'accordo allora attenzione se è vero che le tasse parliamo della lira e non dell'euro se è vero che le tasse non finanziano la spesa dello Stato è vero che le tasse non finanziano gli ospedali non finanziano i servizi pubblici non finanziano i poliziotti i carabinieri non finanziano le scuole non finanziano gli insegnanti eccetera quindi è vero che l'evasione fiscale è qualcosa che non inficia il funzionamento dello Stato non può è impossibile è lui è lo Stato che crea il denaro per creare servizi poi sottrae il denaro dopo averlo creato non può fare il contrario non può venire a chiedere a te i soldi per fare servizi non può ribaltare la frittata ne conseguo che l'evasione fiscale non è un crimine non lo è mai stato fermi non lo è mai stato è una cosa che può essere antipatica ma non perché sottrae il funzionamento dello Stato non c'è mai stato un bambino a cui si è stato negato un posto all'asino nido perché ci sono gli avvisori fiscali in Italia allora l'evasione fiscale che cos'è? non è altro che una espansione informale della spesa dello Stato cioè il cittadino informalmente non essendo il ministro del tesoro essendo semplicemente il cittadino decide per i cavoli suoi in maniera informale di espandere alla spesa dello Stato perché lo Stato ha fatto questa spesa e tassa se tu qui nel momento della tassazione scapi via ti nascondi e nascondi i soldi questa freccina si riduce e se si riduce questa freccina questa è più grossa cosa hai fatto? hai semplicemente aumentato questo lo hai fatto tu per i fatti tuoi arbitrariamente l'evasione fiscale è una espansione informale della spesa dello Stato cioè è la cittadinanza che dice allo Stato ho bisogno di più soldi perché ho desiderio di risparmiare ho desiderio di comprare qualcosa ho desiderio di espandere il mio standard di vita ho desiderio di investire meglio nella mia azienda ho desiderio di riuscire a aumentare il turnove dei miei affari per cui io decido da cittadino che tu stai spendendo troppo poco e allora io ti do meno soldi ok? questa è l'evasione fiscale non è un crimine è un segnale che la cittadinanza dà al governo che c'è bisogno di più denaro d'accordo? qual è il danno dell'evasione fiscale? non è assolutamente un danno sociale non è assolutamente un danno criminale l'evasione fiscale non deve assolutamente andare in galera il danno dell'evasione fiscale è solo uno è che impedisce allo Stato ce ne sono due o tre ma diciamo quello importante è che impedisce allo Stato di usare le tasse per controllare l'inflazione perché sapete che l'inflazione vuol dire che c'è troppa moneta qua dentro ce n'è troppa tanta troppa rispetto ai prodotti allora lo Stato intelligentemente dice ok se c'è troppa inflazione aumento per un po' le tasse dreno questo liquido no? e tutto torna a funzionare bene come prima chiaro che se uno evade lo Stato ha meno capacità di drenare denaro e l'inflazione può rimanere a un livello troppo alto o comunque alto ma questo non devasta il Paese l'abbiamo visto prima è un problema ma non devasta il Paese questo è il danno dell'evasione fiscale allora torniamo al punto se il cittadino manda un segnale di massa e dice io se non faccio del nero caro signor ministro non apro domani ok perché è vero che c'è chi evade per comprare l'iPhone è vero che c'è chi evade per andare alle Maldive o comprarsi la seconda villa ok ci può stare sul cavolo uno così ma non è un criminale ok ma è anche vero che c'è un pacco di gente che vale perché se no domani mattino non tira sulla seranda d'accordo allora questo è un segnale importante per il governo dire dovete spendere di più la MMT permette al governo di dire tac spendo di più d'accordo se questo è il bisogno che mi arriva dalla cittadinanza spendo di più è la stessa cosa è uguale può essere più antipatico dell'evasione fiscale di chi come dico non riuscirebbe ad aprire il bar la mattina dopo però non porta un danno sociale è una cosa antipatica se vogliamo perché le banche ci stanno sull'anima però è la stessa cosa e di nuovo è fra l'altro attenzione perché non solo è un segnale che arriva al governo ma attenzione è denaro che rimane qua dentro e se rimane qua dentro verrà speso e se verrà speso crea occupazione crea consumi aumenta la domanda aggregata più negozi lavorano più gente lavora più persone vengono assunte quindi l'evasione fiscale paradossalmente a un certo punto può anche migliorare l'economia non danneggiarla capire le tasse la natura delle tasse è fondamentale ma si faccia attenzione se mi avete seguito fin qua si faccia attenzione a una cosa attenzione a una cosa tutto quello che ho detto sulle tasse è che è sacrosanto non solo per la modern money theory è sacrosanto in macroeconomia d'accordo e fra l'altro ci sono le testimonianze anche di grandi banchieri centrali come Bernanke Bernanke o Greenspan che l'hanno detto tante volte durante le interviste sì ok le tasse non vengono pagate sono un'espansione bisogna soltare attenta l'inflazione ma attenzione qua questo è il sistema euro se è vero che questo signore che è il governo ed è vero deve andare da questo sistema di investitori privati per avere ogni singolo euro che spende in questo sciaguratissimo sistema è anche vero che il governo ha bisogno delle vostre tasse per funzionare perché il governo non è proprietario della moneta d'accordo quindi se qui evadiamo le tasse qui sottraiamo al governo dei fondi veri reali con l'euro l'evasione fiscale è diventato un crimine è vero che con l'euro se uno non paga le tasse può chiudere una scuola può chiudere un ospedale perché questo governo qua ridotto in queste condizioni miserabili deve pescare dovunque possa tagli alla spesa tasse titoli di stato venduti a questi signori per riuscire a avere la moneta a queste tre strade basta questo vi fa capire ancora di più alla tarda ora che siamo arrivati che razza di crimine è aver accettato l'euro non solo tutto quello che abbiamo appena detto ma anche questo fatto che adesso lo stato non può più usare la leva delle tasse voi pensate che in America in questo momento ci sono dei politici nel partito repubblicano che chiedono l'annullamento l'azzeramento delle tasse sul lavoro non sono dei deficienti che fanno i giocolieri per la strada sono dei parlamentari americani sanno quello che dicono in America si può fare hanno una moneta sovrana possono chiudere completamente quel tipo di tassazione cioè la possibilità del governo a questo punto di ridurre le tasse in un momento di recessione per risollevare le aziende italiane sarebbe con la MMT con la moda è totale tagliamo il costo del lavoro italiano a zero a zero lo stato non perde gli asili nido non perde gli ospedali non perde gli infermieri non perde gli autobus non perde le scuole ripara le strade più di prima questa è la realtà dell'economia sovrana con moneta sovrana è un capitolo importantissimo ed è veramente dal mio punto di vista angosciante ma angosciante che siamo qua con gli imprenditori che urlano giustamente abbiamo il 61% di tasse e stiamo chiudendo le aziende e mandiamo la gente a casa ma porca miseria quando qui potremo non solo non chiudere le aziende ma toglierle anche le tasse certo in maniera selettiva va bene detogli le aziende in difficoltà quello che ti pare ma lo puoi fare buonasera volevo chiedere perché non hai parlato anche oltre a essere d'accordo sul fatto della creazione della moneta che come diceva John Kenneth Galbraith i tassi di crescita della moneta corrispondono sempre nella storia matematicamente i tassi di crescita del PIL nominale quindi detto dal più grande economista che probabilmente è vissuto nel secolo scorso la tua teoria secondo me diciamo che regge ma c'è l'altra un altro 50% che ci ha portato oggigiorno non solo in Italia ma nel pianeta anche il pianeta America è stato quello che Luciano Gallino che sicuramente conoscerai chiama finance capitalismo cioè la speculazione finanziaria che avrebbe già incenerito le banche le avrebbe già incenerite tu lo sai meglio di me che attraverso il mercato over the counter controlla l'economia mondiale che è quella che poi dopo decide questa oligarchia fatta dalle sette otto grandi banche con dietro i grandi investitori internazionali consente di mettere a repentaglio intere nazioni interi continenti perché le scommesse dei credit default swap e relativi tu sai che sono dodici volte il PIL mondiale quindi la carta finanziaria che esiste in giro per il pianeta è dodici volte tutta la nostra ricchezza quindi questa la carta esisterebbe pure solo che mettono a rischio la sopravvivenza sia delle banche e quindi la nostra sopravvivenza lo sfruttamento delle nostre vite perché poi ti chiedono di lavorare anche a 500 euro 600 euro perché dicono che c'è la concorrenza c'è la crisi le banche non hanno soldi da elargire quando le banche lavorano una la più le banche d'Europa la Deutsche Bank lavora leva 1 a 50 una volta e mezzo il PIL tedesco se succede un imprevisto la Deutsche Bank si beve il governo tedesco nel giro di 6 mesi e sappiamo benissimo che le banche tedesche hanno dentro di sé delle bombe delle bombe perché sono esposte per 3 volte il PIL tedesco solo che questo alla comunità europea Draghi e neanche Monti lo raccontero perché sai andare a vedere li conoscono i bilanci della Deutsche Bank come li conoscono come ad esempio e chiudo perché mi sto dilungando c'è un'inchiesta della della magistratura americana sul fatto che fino a due a un anno e mezzo fa gli otto banchieri più grandi del mondo si riunivano a New York e decidevano su cosa scommettere perché tu sai benissimo che se io muovo dieci volte il capitale che contro di te io posso scommettere qualsiasi cosa della tua vita contro la tua azienda contro la banca e posso ridurre in cenere milioni di vite rapidissima risposta il signore ha parlato con dei dettagli forse un po' difficili del problema della speculazione finanziaria che crea delle bolle di denaro immense eccetera la risposta è molto chiara è sempre qui assieme a la sottrazione della sovranità monetaria degli stati in parallelo è nata anche la sottrazione di altre sovranità come ho detto ne ho citato alcune fra cui la deregolamentazione delle banche voi sapete che le banche di fatto sono istituti pubblici perché sono dovrebbero essere strettamente regolamentate da leggi statali hanno la garanzia sui conti correnti dello Stato per cui la maggioranza della liquidità di una banca in conto corrente garantita completamente dello Stato quindi di fatto le banche sono in mano completamente alla funzione pubblica non solo ma anche la capacità delle banche di prestare denaro è regolamentata da leggi che sono fatte dai politici ora la deregolamentazione bancale che è lato original mostro che ha citato il Signore è un altro aspetto del lavoro di sottrazione di sovranità da parte dell'elite che citavo prima dello Stato oggi gli stati sono arresi alla deregolamentazione delle banche hanno lasciato le banche libere di fare quello che gli pareva e il risultato è stato un po' quello che avete sentito io adesso parlando di questa deregolamentazione delle banche vorrei anche parlare della regolamentazione privata delle banche giusto Basilea dei vari comitati che nessuno chiaramente ha votato vorrei capire come funzionano queste regolamentazioni all'interno dell'Unione Europea nel senso so che vanno a ponderare il rischio ora e quindi la banca se deve prestare 100 deve calcolare prima rischio sul soggetto e poi presta 100 e deve tenere da parte una riserva a questo punto mi verrebbe da dire le politiche monetarie perché sono state fatte politiche monetarie espansive in questi anni europee a mio parere non so se dico bene sono servite a riempire queste riserve di rischio no? delle banche internazionali che poi dico erano le ex banche nazionali italiane la banca Italia la banca d'Italia giusto? non so se sbaglio sì la domanda è se è precisamente la domanda è precisamente questa se queste regolamentazioni private insomma in questo senso servono comunque a delegittimare ancora di più la sovranità del popolo ripeto non sono no qui c'è un errore in fondo le regolamentazioni non sono mai private sono se lei vuole sono organi di funzionamento pubblico sono pesantemente influenzate dal privato cioè sostanzialmente la basilea 2 3 se non mi sbaglio è frutto del lavoro di un gruppo di banchieri di cui fa parte anche Mario Draghi in maniera del tutto impropria che è il gruppo dei 30 che negli anni 90 ha stilato tutta una serie di proposte di regolamentazione che sono state semplicemente comprate proprio bevute alla lettera da questi funzionari tecnocrati pubblici che hanno semplicemente prese lette applicate e così hanno deregolamentato il settore bancario poi che oggi come dire questa è una foto dei disastri è vero ma le banche una cosa molto semplice da capire per tutti le banche sono come delle oche se tu gli dai da bere queste bevono fino a scoppiare d'accordo e non è che puoi dare la colpa alla banca lo so che la banca è antipatica a tutti ma le banche sono delle oche cioè sono nate così la colpa non è delle banche è la colpa dei politici è del contadino che ha le oche che gli ha troppo da bere che gli ha permesso di bere troppo è la colpa è sempre della regolamentazione statale governativa sempre degli organi europei di controllo i famosi regolatori europei adesso stanno facendo delle proposte per riproporre una grande autorità europea di regolamentazione delle banche ma il fatto è che abbiano permesso alle banche di avere un rapporto fra capitale e prestiti emessi del 10% a 100 cioè la banca basta che abbia in capitale il 10% se la banca presta un miliardo ok l'importante è che abbia in capitale il 10% di un miliardo poi può prestare un miliardo di denaro che non ha capite questo non è sono state le banche che si sono inventate questa roba sono i politici che hanno permesso alle banche di fare questo è in questo modo che le banche hanno creato queste bolle spaventose tu capisci nel momento in cui tu hai in cassaforte 100 lire e puoi prestare 1000 semplicemente garantendo 100 poi succede qualcosa cosa fai a garantire gli altri hai 10 lire in cassaforte ne puoi prestare 100 o hai 100 lire ne puoi prestare 1000 come fai a garantire gli altri 900 o gli altri 90 questo è il problema è sempre un problema di regolamentazione pubblica che noi come fra l'altro i nostri economisti fra cui anche in particolare Warren Mosler è colui che porta in giro l'idea che tutto il sistema bancario è di fatto fallito quindi andrebbe tutto rinazionalizzato e riprivatizzato a condizioni molto strette da parte dei governi ma non però attenzione cadere nella tentazione di certi demagoghi che fra l'altro non capiscono questi temi non studiano questi temi che dicono ah le banche sono tutte criminali e bisogna impedire alle banche di creare denaro no le banche quando le banche creano denaro che creano un corrispettivo indebitamento quindi non è mai denaro al netto però in quel momento per un'azienda per esempio per un negoziante per chiunque avere quei soldi è utile d'accordo poi è chiaro che è un indebitamento ma qual è il problema il problema è che se questo signore che si chiama governo non crea abbastanza economia per cui poi quel negoziante che ha fatto i debiti con la banca incassi un bel po' di più anzi 3, 4, 5, 7, 8 10 volte di più di quello che si è indebitato e può facilmente ripagare la banca se lo Stato non fa questa funzione non possiamo dare la colpa alle banche scusate cioè non è colpa della banca che ti ha fatto un presto e non lo puoi ripagare non lo puoi ripagare perché la gente non viene a comprare la tua roba perché la gente è in un'economia che sta fallendo è perché questo signore qui non fa il suo dovere capite? deve essere molto chiara questa storia scusi se mi ripeto ma io credo ci sia una forte responsabilità proprio da parte dei politici e degli organi di stampa che hanno permesso tutto questo io credo anche che tutto quello che lei sta dicendo e anche i finanziamenti per ottenere di fare dei convegni e tutte queste cose se ci fossero gli organi di stampa e i politici e intendo organi di stampa sia nel piccolo che nel grande politici sia nel piccolo che nel grande che non fossero così colpevoli come a me sembra che siano no, lei non crede i politici ma cosa pretendiamo e anche gli organi di stampa che sono collusi ma siamo noi la politica se non la facciamo noi è inutile che pretendiamo che i politici facciano qualcosa dai, siamo noi che dobbiamo muoverci e fare quello che dobbiamo fare perché non lo facciamo mai è lì il problema dalla coppa ai politici volevo fare solamente una domanda ipotizzando che il governo attui una politica monetaria espansiva questa politica può essere valida all'infinito cioè può emettere moneta senza avere un termine perché qualcosa mi ricorda non ho studiato cioè premetto che non ho studiato la materia ma qualcosa mi dice mi ricorda la trappola della liquidità all'interno del sistema non governativo allora la risposta è questa dunque questa cosa si può fare con un solo limite il governo allora il debito pubblico è un numero che sta dentro un computer del ministero del tesoro non è un debito del governo con nessuno se c'è una moneta sovrana non è un problema di debito non lo dovete ripagare voi eccetera l'emissione di moneta non crea inflazione a patto che queste emissioni di moneta cioè tutta questa moneta che entra qua dentro crei attività produttive crei lavori crei produzione eccetera perché solamente nel momento in cui entra tanta moneta qua non si produce più tanto allora dopo c'è l'inflazione ok l'inflazione poi c'è anche per altri motivi ma sostanzialmente il primo motivo è questo la domanda del signore è importante allora questa cosa questo processo virtuoso spendi sempre di più di quello che tassi lasci sempre più soldi qua dentro di quello che togli può andare avanti all'infinito no la risposta ovviamente è no e qual è il limite il limite è la piena capacità si chiama cioè nel momento in cui il tuo stato ha speso a sufficienza per dar lavoro a tutti gli italiani tutti cioè non c'è un disoccupato neanche a cercarlo con chi l'ha visto ok nel momento in cui le aziende hanno stanno lavorando a piena capacità quindi non possono prendere più personale perché non possono produrre più di quello che possono produrre nel momento in cui hai toccato il tetto delle materie prime che può importare nel momento in cui hai toccato la capacità del paese di vendere ai propri cittadini servizi novità cose case pieni alloggi hai il pieno alloggi hai la piena sanità hai la piena occupazione nessuno è senza casa che ne so nessuno a nessuno manca un'auto nessuno manca un'assicurazione nessuno manca un computer nessuno manca nel momento in cui si è arrivato a questo livello che è un livello di sogno della società a cui nessuna società in realtà è mai arrivata a questo livello continuare la spesa diventa inflattivo cioè può creare inflazione può creare un problema comincia a avere un ritorno di fiamma però voi capite molto chiaramente che una cosa del genere una situazione del genere non si è mai verificata e in Italia dove abbiamo il 32 per 34% dei giovani disoccupati il 12% dei adulti disoccupati dove abbiamo le aziende che chiudono a 40.000 all'anno dove abbiamo sacchi di povertà che stanno aumentando in maniera spaventosa 10 italiani su 100 che non si riscaldano sufficientemente d'inverno e bla 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 possono andare avanti all'infinito questo problema non si pone per cui prima di creare allarmi sui limiti della modern money theory e della spesa e deficit del governo devono passare molti decenni bene volevo farti una domanda io se ci puoi spiegare brevemente cos'è il fiscal compact che è stato messo in costituzione dai nostri politici allora il fiscal compact è innanzitutto un trattato europeo non è una semplice misura economica è un trattato europeo firmato da i governi dell'eurozona che dovrebbe essere applicato fra l'altro anche dagli altri governi dell'Europa fino a tutti i 27 quindi come trattato europeo è un trattato che va firmato dal Parlamento e ratificato per cui una volta che è ratificato diventa legge nazionale prima cosa ok e è un trattato di austerità che dice che l'Italia deve mettere in costituzione l'Italia la messa il pareggio di bilancio cioè spendo 100 tasso 100 lascio 0 cioè in costituzione viene messo l'impoverimento automatico della società che decreta che l'Italia è un paese commissariato dove come ho spiegato prima i maggiori capitoli di sovranità economica non sono più di proprietà del Parlamento e del Governo italiano ma sono di proprietà e di controllo esclusivo di orgoli non eletti dall'Italia commissione europea ok fondo monetario internazionale banca centrale europea è un trattato che decide che ci possono essere delle penalità applicate al paese che sgarra questi parametri per cui l'Italia può avere multe nell'ordine dei 2 miliardi di euro all'anno se sgarra i parametri imposti dal fiscal compact sono 2 miliardi di euro che spariscono in multe all'Italia solo per aver violato questa legge che nessun italiano ha votato che nessun parlamentare italiano capisce e che c'è entrato in costituzione è un trattato che decreta per esempio che la Germania dico io la Germania ma un qualsiasi paese dell'eurozona può iniziare una procedura penale contro un altro paese se ritiene che questo paese stia sgarrando i parametri stabiliti dal fiscal compact capito senza addirittura neppure il parere preventivo della commissione europea proprio si dà la libertà massima a qualsiasi paese ho detto alla Germania è un lapsus freudiano ma perché io penso che sarà sicuramente la Germania che farà tutti questi ricorsi di mettere sotto accusa uno degli altri paesi quindi è un ripeto per riassumere un impoverimento automatico dell'Italia con crisi deflattiva dell'economia italiana garantita è una perdita di sovranità spaventosa delle priorità maggiori dello Stato è un fra l'altro sancisce che il comportamento virtuoso o meno virtuoso dell'Italia debba essere giudicato secondo due parametri fondamentali il costo del lavoro che deve andare a ribasso ovviamente chiaro non il costo del lavoro a rialzo il costo del lavoro e la spesa sui servizi pubblici quindi se d'Italia dovesse essere processata per infrazione dei parametri sarà giudicata soprattutto in base a queste due parametri a stipendi troppo alti e servizi pubblici troppo estesi non si è pensato di dire non so l'Italia sta spendendo troppo per le spese militari ecco per esempio non hanno messo una cosa del genere hanno messo solo abbiamo troppi ospedali troppi asini nido troppi ambulatori allora dobbiamo essere multati questo sancisce il fiscal compact fra le altre cose ed è una mostruosità democratica di sovranità economica è un crimine contro la cittadinanza l'abbiamo votato ratificato e messo in costruzione volevo riprendere un attimo sottolineare un aspetto delle tasse nel senso una tassazione progressiva e magari eventualmente una tassazione sui grandi patrimoni serve eventualmente anche a ridevitare sperequazioni troppo elevate tra i patrimoni dei cittadini leggevo mi pare che il 10% degli italiani emano il 50% della ricchezza nazionale negli Stati Uniti probabilmente anche peggio e questo magari serve ad evitare che appunto la parte più ricca della popolazione si compri o ai mesi di comunicazione o faccia lobbying o si compri direttamente il politico e quindi diciamo serve a mantenere aperto il gioco democratico quindi in questo senso la tassazione può anche avere una funzione in più pensiamo poi anche a quello che possono essere eventualmente i limiti ecologici adesso l'Italia è abbastanza ferma però un'altra cosa che leggevo è che se ogni abitante della terra consumasse quanto un cittadino americano ci sarebbe bisogno di 4 pianeti terra per un italiano almeno fino a qualche anno fa ne sarebbero bastati 2 adesso forse siamo un po' calati non so però quindi questa cosa di pompare denaro per far crescere posso capirla però c'è un limite anche fisico oltre che semplicemente ultima cosa dipende anche poi da appunto come si spende il denaro non so se lo Zimbabwe si mettesse a fare la MMT se automaticamente diverrebbe immagino come ha detto lei diceva ogni lire in più ogni euro in più che ho avuto dentro deve generarmi un uovo in più un prosciutto in più insomma qualcosa di se no ovviamente vado in vado in si sente si sente se lo Zimbabwe applicasse automaticamente la MMT diventerebbe comincerebbe automaticamente a crescere cioè dipende immagino da come sono spesi i soldi in maniera allora tre problemi la 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 tassazione progressiva bisogna di nuovo tornare all'idea che uno dei miti falsi dell'economia è che tassando i ricchi si riesce a finanziare la spesa per i meno ricchi questo non è assolutamente vero perché tassando i ricchi innanzitutto si accumulano capitali che sono estremamente inadeguati sono prima come il discorso di stipendio dei parlamentari sono delle frazioni del denaro che uno Stato deve spendere per la propria cittadinanza non accadrà mai che tassando i miliardari italiani avremo abbastanza soldi per far funzionare ospedali scuole e strade prima cosa secondo tassando i ricchi sottrai domanda aggregata cioè sottrai del denaro che i ricchi poi spendono perché i ricchi saranno antipatici però comprono della roba spendono viaggiano fanno vacanze comprano case assumono persone e tassando i ricchi rischi poi di ridurre anche una quota di domanda aggregata di ricchezza del paese e tassare i ricchi ha una sola funzione in realtà che è una funzione legittima che è una delle poche funzioni legittime delle tasse che è quella di controllare l'accumulo di patrimoni a sufficienza perché si disgreghi lo Stato se non si tassassero adeguatamente i grandi patrimoni un grande patrimonio potrebbe decidere di inventare uno Stato e una moneta propria potrebbe decidere di creare un proprio feudo e potrebbe spaccare lo Stato in due in tre in quattro in cinque si ritornerebbe alle situazioni pre-democratiche per quello la cosa delle risorse è giusta la MMT non è una teoria economica che dice che dobbiamo avere lo Stato che spende così compriamo 70 telefonini a testa così mettiamo la benzina nella macchina e facciamo dei buchi col punto ruolo nel serbatorio tanto chi se ne frega perché lo Stato ci dà abbastanza soldi per fare il pieno quattro volte al giorno non è una buffonata di questo genere la MMT è una teoria che dice che innanzitutto questo Stato può fare questa opera di creazione di economia interna ok secondo quel tetto di risorse di cui ho parlato prima il problema delle risorse globali è un problema importante che la MMT non ha mai scartato d'accordo ma attenzione che una componente enorme dell'economia creata dall'MMT non è né telefonini né plastica né gomma né niente sono servizi uno dei settori di studio più importanti che noi proponiamo per risanare il paese e creare posti di lavoro noi diciamo è inutile stare in sista con la Fiat con la metalmeccanica è un settore perduto Marchione sarà una testa di quello che è è anche un uomo odioso per carità di Dio e il loro progetto è odioso per carità di Dio ma la metalmeccanica è condannata è condannata dalla tecnologia in Corea i nuovi stabilimenti non hanno le lampadine non ci sono perché non ci sono uomini che ci lavorano dentro d'accordo quindi questo è il futuro della macchina è inutile che stiamo a insistere negli operai allora la MMT ti dice tu dici al signor Marchione ti prendi la tua Fiat e te ne vai alle Cayman te ne vai dove cavolo ti pare chi se ne frega hai fatto delle macchine che fanno schifo per 50 anni basta te ne vai dall'Italia questa gente che perde il lavoro la si prende la si rimpiega con stipendi esattamente identici nel settore dei servizi noi abbiamo delle società che oggi hanno un sotto una sotto fornitura di servizi addirittura a volte si calcola del 90-92% cioè noi abbiamo l'8% dei servizi che ci servono avremo migliaia centinaia di posti di lavoro creati nei servizi che producono economia producono ricchezza producono efficienza producono benessere in tutti i settori oltretutto con la popolazione anziana che abbiamo che sta aumentando di smisura per fortuna io ho una madre di 88 anni con un paio di handicap importanti io avrei bisogno di 5 persone fisse 5 solo per mia madre solo per lei per farle fare una vita decente non le abbiamo ovviamente non ce le possiamo permettere con la mmt tu hai 5 persone che lavorano in questo settore per un singolo anziano pensate a una qualsiasi cosa un'azienda che ha un personale femminile con dei figli piccoli queste donne impazziscono perver qualcuno che porta i bambini a scuola il marito deve impazzire la zia la mamma la nonna non si capisce come chi la prende tu hai per ogni famiglia 5 persone che lavorano per quella famiglia lì ok uno porta i bambini a scuola quell'altro li fa da mangiare l'altro li fa la ginnastica quell'altro li porta in piscina quell'altro li fa l'educazione non so i giochi creativi quell'altro li fa le festicciole 5 persone che lavorano in una famiglia ognuno pagato con uno stipendio quella persona è tranquilla si sveglia la mattina bacia i bambini è a posto non deve pensare a niente va a lavorare lavora meglio produce meglio per l'azienda sta meglio è più rilassata litiga di meno meno stress ci sono esempi a migliaia di questo assistenti personali negli ospedali non sappiamo mai a chi chiedere i medici dobbiamo fermarli per il corridoio e tirarli per il camere non esiste personale addetto alla comunicazione negli ospedali impieghi per ogni ospedale 100 persone addette alla comunicazione vanno entro escono cartelle cliniche cosa sta succedendo cosa è successo in che camera è quali sono le notizie mediche cosa devo fare a chi mi devo rivolgere per i servizi eccetera all'infinito quindi la MMT non sta dicendo creiamo economia all'infinito per sprecare plastica petrolio e arrivare a distruggere le risorse del pianeta al contrario stiamo proprio dicendo questo laddove la tecnologia arriverà a usare molto meno materiale umano e anche molto meno materiale tecnologico a sprecare molto meno materiale creiamo posti di lavoro in un'altra maniera bene voglio chiederti siamo usciti alla lira e dobbiamo comprare il petrolio come facciamo? dobbiamo comprare il petrolio siamo usciti alla lira e dobbiamo comprare il petrolio siamo tornati alla lira siamo tornati alla lira dobbiamo comprare il petrolio come facciamo a comprare il petrolio che anche questo è un altro fantasma usato l'altro spauracchio usato per paralizzare la gente impedire alla gente di immaginare la soluzione a questo disastro economico innanzitutto la spesa per l'energia in Italia la spesa per il petrolio in Italia è una cosa ridicola rispetto a quello che tutti si immaginano noi che paghiamo la benzina così cara siamo distinto portati a immaginare che il governo italiano per l'energia in Italia spenderà quanto? 40% il 50% della spesa dello Stato in realtà quando l'Italia spende molto per l'energia spende l'1,7 2% della propria spesa pubblica quindi è il 2% del fatturato della spesa dello Stato 1,7 1,2% quindi intanto è un problema molto relativo nel momento in cui si tornasse alla lira la seconda cosa che non si sa è che non è vero che il petrolio si compra in dollari questa è una balla una bugia è proprio una cosa ridicola non è mai stato così mai al mondo il petrolio è prezzato in dollari cioè ha un valore che è prezzato in dollari ma si compra con qualsiasi moneta al mondo terza risposta il paese come l'Italia che ritorna a portare questo paese allo splendore dell'economia che aveva e che era e agli investimenti esterni che arrivano qua che arriva a riportare l'Italia anche se non in via privilegiata perché non è un settore da privilegiare ma che arriva a riportare l'Italia a quei valori di esportazione che avevamo a quei privati di esportazione che avevamo è un paese che attira capitali straniere attira moneta forte che può essere usata per comprare l'energia attira dollari attira yen eccetera e questo è facilmente comprensibile quello che abbiamo sempre fatto nella storia nazionale l'Italia non è mai andata in crisi per i suoi fabbisogni energetici queste sono cose che vengono usate come spauracchi per impedire alle persone di capire l'economia e di guidare l'economia a proprio favore portiamo scusa anche ma poi comunque pensate solamente al fotovoltaico cioè abbiamo una sottouso in un paese come l'Italia è qualcosa di incredibile potremmo col fotovoltaico veramente io ho un parente che ha lavorato tutta la vita come direttore generale al Max Planck Institute di Monaco del progetto di fusione nucleare che è in pensione adesso e oggi lavora cosa incredibile per un uomo di quella formazione lavora per studi che dimostrino come il fotovoltaico potrebbe in realtà fornire all'Italia quasi tutta l'energia di cui ha bisogno non tutta ma quasi tutta anche questo è un investimento che può venire dallo Stato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti